vai ok grazie, buonasera a tutti benvenuti a questo penso settimo ottavo incontro aperto del movimento idea civica Petralia e stasera abbiamo il piacere di avere ehm il preziosissimo contributo del forum diseguaglianza e diversità con noi sono presenti Andrea Morniroli e Patrizia Luongo che tratteranno tre temi assolutamente interessanti eh patti educativi territoriali appalti pubblici partecipati e alleanza fra ehm le imprese e i centri di ricerca faccio una una brevissima introduzione sul movimento idea civica Petralia e poi proprio sul ehm sulle attività e il cuore pulsante del forum lascio la parola a voi eh noi eh come movimento idea civica Petralia Sottana stiamo proponendo una serie di incontri aperti eh volti proprio a costruire una visione partecipata per il futuro di Petralia Sottana e eh più in generale per le Madonie. I temi che trattiamo ovviamente sono eh largamente applicabili a una realtà comprensoriale sovracomunale noi partiamo dal nostro dal 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 piccolo eh e speriamo che questo modello diciamo che questi modelli trattati possano trovare una concreta applicazione. Eh questa diciamo eh approccio che abbiamo scelto è un po' come dire controtendenza. Noi ovviamente ci configuriamo come come un movimento politico eh in vista delle prossime amministrative che saranno eh il dodici giugno prima ancora di parlare di nomi di 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 candidature diciamo di tutto ciò che c'è di tradizionale eh nella configurazione di una lista stiamo cercando di ehm chiamare a raccolta veramente tutti i cittadini per questo promuoviamo incontri aperti dove tutti chiunque può venire a sedersi può alzare la mano e può dire la sua e e vogliamo appunto costruire una visione partecipata e trasparente che sia largamente condivisa parlo di visione non di programma perché il nostro obiettivo appunto quello di costruire uno scenario un mondo cioè come immaginiamo eh la nostra comunità fra dieci vent'anni ovviamente ovviamente partendo anche da azioni concrete che si possano realizzare domani mattina però quello che ci preme è e guardare già avere gli occhi puntati eh al al futuro quindi per questo è necessario per noi costruire una visione intanto ringrazio i nostri due ospiti di stasera e per quanto riguarda appunto come dicevo prima le le attività del forum eh e cos'è il forum di sguaglianza e diversità che noi seguiamo da tempo ehm abbiamo anche contribuito con un articolo sullo sullo spopolamento che è pubblicato sul sul sito del forum però per diciamo per capire eh diciamo e parlare un po' delle attività del forum di sguaglianza e diversità lascio subito la parola ai nostri due ospiti non so chi dei due inizia. Prego. Va bene salve intanto buonasera a tutti e tutti sono Andrea Morniroli che ordino il forum disuguaglianza e diversità insieme a Fabrizio Barca che tra l'altro vi saluta e mi ha parlato benissimo di voi quindi avete questa responsabilità di di questo di questo viatico con cui vengo stasera a conoscervi perché invece io non vi conosco quindi eh sono contento comunque di essere qui. Velocemente il il forum perché poi gli oggetti di questa sera sono già abbastanza impegnativi quindi non vorrei rubare tempo. La diciamo così il forum è un animale strano perché è fatto in forma abbastanza originale cioè il forum mette insieme persone diverse che vengono sostanzialmente dal mondo dell'accademia e delle professioni e dal mondo dell'impegno civico quindi nel mondo dell'associazionismo della cooperazione eh perché riconosci in queste due componenti persone che non hanno soltanto parlato in questi anni disuguaglianze ma ci hanno studiato ci hanno lavorato le hanno analizzate hanno provato ad attivare attraverso servizi interventi attività di contrasto e guardate questa cosa non è poco perché oggi abbiamo spesso e volentieri una politica e dei decisori che parlano dei fenomeni eh parlandone quasi sempre sulla rappresentazione ma facendo una gran fatica ad affrontare la realtà perché la realtà specialmente su un tema così complesso come disuguaglianze è faticosa far i conti con le disuguaglianze in questo paese se non ci si vuole limitare a dire come fanno tutti che disuguaglianze vanno superate significa avere il coraggio le competenze la pazienza la disuguaglianze per potersi lavorare il forum ha provato a fare questo ha provato a mettere insieme persone diverse perché riconosce a queste persone hanno parlato della realtà non delle sue rappresentazioni e secondo elemento originale è che dentro il forum ci sono anche culture proveniente molto diverse per esempio tra le organizzazioni cittadinanza attiva abbiamo action aid che ha un approccio molto anglosassone alle politiche sulla discriminazione l'immigrazione e dentro abbiamo caritas che invece ha un approccio completamente diverso nel forum ci sono associazioni nazionali oltre action aid caritas cittadinanza attiva wisper ed ambiente ma poi c'è anche la cooperativa dedalo che è la mia cooperativa con la cooperativa che si occupa di migrazione e marginalità urbana da 40 anni a napoli la fondazione basso piuttosto che la fondazione di comunità di messina e non era scontato e semplice queste persone si mettessero insieme. Ve la dico così perché insomma questo avvio abbastanza informale che è partito dall'errore di Patrizia che ha scatenato la faida tra le due petralie insomma mi consente di essere abbastanza informale io la prima riunione del forum ho fatto una litigata furibonda con Marco De Ponde di action aid perché avevano due modi diversi di pensare alle politiche sul governo dei flussi migratori poi pian piano ci siamo annusati conosciuti abbiamo avuto la pazienza di confrontarci e quindi abbiamo costruito un percorso di reciproca uso una parola bruttissima in questo periodo contaminazione in questo caso è in positivo. Dopodiché il forum che cosa fa? Il forum è partito da un presupposto le diseguaglianze non sono il prezzo inevitabile da pagare allo sviluppo e alla globalizzazione le diseguaglianze sono causa di politiche sbagliate che hanno indebolito il potere dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno prodotto un'inversione a U delle politiche pubbliche che hanno cambiato senso comune e quindi non sono a caso e quindi il forum che cosa fa? Il forum ha provato attraverso questo diciamo modo un po' originale di costruire confronto a costruire nuove informazioni a rendere più pubbliche quelle esistenti a fare ricerca ricerca azione e a costruire delle proposte di policy. Sono venute fuori così le 15 proposte che partivano dal rapporto di Edison sulle diseguaglianze e poi adesso sta lavorando con quelli che noi chiamiamo alleanze di scopo che sono pezzi di lavoro che hanno dentro di sé che si aggregano attorno a uno scopo un obiettivo, un tema dal welfare ai consigli del lavoro alla cooperazione a tante tematiche dove il forum intreccia relazioni con altri pezzi che possono essere un movimento come il vostro, che possono essere una parrocchia, che possono essere un movimento civico, un centro sociale, un circo di partita. Perché guardate la cosa che, e la chiudo qui, la cosa che più mi colpisce di questa esperienza, io ahimè sono ormai 41 anni che lavoro nel campo del sociale perché poi di mestiere faccio l'operatore sociale, il cooperatore. E in questi anni, diciamo in questi tanti anni la mia la mia attività lavorativa è sempre stata quasi sempre affiancata da un impegno di militanza civica, politica. E raramente ho trovato un posto come il forum dove persone diverse investono in un reciproco apprendimento che determina la crescita di tutti i componenti. E questa roba oggi sta pagando. A volte per meriti nostri, a volte anche perché mi sembra che ci sia un grande vuoto politico. E quindi un soggetto come il forum, che in qualche maniera non propone chiacchiere o rappresentazioni, ma propone argomenti complessi della realtà, a volte anche faticosi, in questo momento sta avendo un riscontro che onestamente io non mi aspettavo. Noi riceviamo mediamente, io coordino anche il gruppo di staff del forum, di cui fa parte anche Patrizia, noi riceviamo mediamente tra le 10 e 15 inviti richieste collaborazioni alla settimana, da gruppi completamente differenti. Allora questo è merito nostro, ma devo dire, siccome mi hanno insegnato quando faccio l'operatore che bisogna essere anche un po' privi di certezze, io credo che questo nostro impatto sia anche dovuto al fatto che c'è un grande vuoto politico. Che ci sono decine, centinaia, migliaia di esperienze in questo paese di fortissime innovazioni, che però non riescono ad avere un rapporto, diciamo, con i decisori, soprattutto a livello nazionale, e che oggi sentono fortissima l'esigenza di recuperare una dimensione politica e culturale del loro agire, quindi di cercare nodi anessi. Il forum, se dovessi dire, in questi quattro anni è provato a costruire ponti tra soggetti differenti. Non so se sono stato, diciamo, troppo sintetico, non so se Patrizia mi vuole correggere o raggiungere, ma questa mi sentivo di fare come presentazione del forum Disuguagliazio Diversità. Allora, correggere certamente no, aggiungo soltanto una cosa piccolissima, e cioè che è stato importante sicuramente la contaminazione tra due tipi di saperi diversi, come diceva Andrea all'inizio, cioè quelli che vengono più dalla teoria e quelli che vengono più dalla pratica, ma soprattutto credo sia stato anche importante il fatto che ci siamo dati, in generale, prima sulle disuguaglianze di ricchezza, ora sulle disuguaglianze in istruzione, il tempo di studiare e avanzare poi delle proposte su dei temi che sono complessi e che quindi non possono ricevere soltanto delle risposte che siano immediate o di pancia, ma hanno bisogno di un ragionamento, è per questo che il forum ha deciso di concentrarsi, di dedicare ogni biennio della sua attività a un tema diverso, perché sono temi e problematiche complesse che richiedono quindi un ragionamento più approfondito, darsi il tempo, è vero che ci sono alcune urgenze ed emergenze che lo abbiamo visto nella pandemia, che richiedono risposte immediate, ma ci sono poi a queste risposte immediate bisogna affiancare anche delle risposte un po' più strutturate, delle proposte un po' più strutturate per andare non solo a intervenire nell'emergenza, ma anche a incidere su quelle che sono le cause più profonde delle disuguaglianze, qualunque sia la dimensione delle disuguaglianze che si è decisa di indagare in quel preciso momento, quindi è l'unica cosa che mi sentivo di aggiungere alla presentazione del forum e per ricollegarmi invece a quello che diceva Giuseppe all'inizio nella sua presentazione, due delle cose che tu hai citato, che state facendo con il gruppo Idea Civica, sono molto vicine al pensiero del forum, penso a due cose in particolare, l'idea di avere un dialogo che sia aperto, che sia anche in qualche modo acceso, nel senso che si confrontano idee diverse, ma che sia aperto a tutti e informato, quindi basato su dei dati, basato su informazioni, su conoscenza. E la seconda cosa che mi è piaciuta molto è stata questa idea di dire non abbiamo un programma, ma abbiamo una visione, perché il programma è l'insieme di azioni che uno decide di mettere insieme per realizzare una determinata visione, non possiamo immaginare di mettere insieme delle azioni a caso se non c'è una visione d'insieme che vogliamo realizzare, così come non possiamo pensare che possiamo agire soltanto su un aspetto tralasciando tutti gli altri, quindi se abbiamo, parlo ad esempio per il forum, se l'idea è quella di ridurre le disuguaglianze, sappiamo che non si può intervenire soltanto su un aspetto, ma bisogna intervenire sulle diverse cause che generano quelle disuguaglianze. Comunque Patrizia vi ha dato subito l'esempio pratico, io praticone e lei vi ha buttato lì una citazione di Amartya Senkos, li buttate in mezzo alle cose, lei è un economista che viene dall'accademia, questo è il forum diciamo. Bene, mi sembra che già l'inizio sia scoppiettante. Noi ribadiamo il nostro ringraziamento per essere con noi stasera perché comprendiamo i vostri impegni giornalieri e grazie per aver messo non solo la vostra professionalità ma soprattutto il pensiero del forum sul piatto della discussione di stasera. Io, anche visto l'orario, per non voler far tardi, passerei subito a parlare dei temi, degli argomenti scelti in modo tale da ricavarci qualche minuto, che spero che sia più di qualche, alla fine per tempestarvi di domande. Ecco, mettiamola così. Patrizia vai tu. Io se volete, Patrizia va su appalti e PMI e poi vado su appalti educativi io dopo. Allora, vado io magari dicendovi già dall'inizio che presenterò i punti salienti della proposta per andare poi eventualmente nei dettagli delle due proposte per andare poi nei dettagli con le vostre domande. Queste due proposte sono il risultato del primo biennio di attività del forum e quindi di quel rapporto di cui parlava Andrea che è stato presentato ormai due anni fa, credo, o quasi tre, che aveva appunto come obiettivo quello di capire come si può intervenire sulle disuguaglianze di ricchezza, che hanno varie cause. Due di queste proposte riguardano uno gli appalti e l'altro la relazione tra le piccole e medie imprese e le università e parto da quest'ultima. Allora perché ci siamo concentrati sulle piccole e medie imprese? Perché, come sapete meglio di me, il sistema produttivo italiano è per lo più caratterizzato da imprese piccole e medie, in alcuni casi addirittura piccolissime. Tutte queste imprese fino più o meno agli anni 80, ai inizi degli anni 90, riuscivano ad essere competitive sul mercato, ma con l'avvento dei grandi cambiamenti tecnologici, dell'utilizzo dei dati, dell'informatica, eccetera, la capacità di queste imprese di fare ricerca o di fare grossi investimenti in ricerca è giustamente venuta meno, no? Perché la capacità economica di investire era inferiore rispetto ai grandi colossi che ci sono ormai in un mercato che è sempre più globale. E questo cosa ha significato? Ha significato che molte imprese hanno perso di competitività e alcune hanno cercato invece di ribilanciare questa perdita di competitività gravando sul lavoro e cioè riducendo il costo del lavoro. Ora, qual è il problema che sicuramente da sole queste imprese non sono in grado di fare ricerca, ma se fossero collegate al sistema delle università, quindi a un sistema di ricerca che è finanziato dal pubblico, perché con poche eccezioni la maggior parte delle università in Italia sono pubbliche, quindi la ricerca è finanziata dal pubblico, mettendo insieme queste due competenze, quindi la competenza della ricerca teorica con la competenza delle piccole e medie imprese, si potrebbe accrescere la competitività, la produttività delle imprese e quindi la loro capacità di rimanere sul mercato. Ora, un esempio di questa collaborazione esiste in Germania con i cosiddetti Fraunhofer. La proposta del forum non è quella di prendere un sistema come quello dei Fraunhofer e portarlo nel nostro paese, perché? Perché non siamo la Germania sotto diversi aspetti, ma soprattutto dal punto di vista di come funziona il sistema educativo, per cui non è una proposta che attualmente è fattibile nel nostro paese, però esistono degli esempi di collaborazione fruttuosa tra imprese e università. Il problema è che questi esempi che nel nostro paese ci sono, non sono tra loro messi a sistema, non sono studiati, non sono valutati e quindi non se ne è fino ad ora, non se ne è fino ad ora, non si è fino ad ora immaginato di capire quali sono i punti di forza delle alleanze già esistenti per poterle in qualche modo replicare su diversi territori, ovviamente adattando questa replica alle differenze territoriali. Quindi questa è una prima proposta. La seconda invece riguarda l'utilizzo degli appalti o degli appalti innovativi o un utilizzo innovativo degli appalti. Che cosa significa? E perché c'è una differenza? Perché i cosiddetti appalti innovativi, che sono appalti o pre commerciali o per soluzioni innovative, senza andare troppo nei dettagli, in questi casi l'amministrazione pubblica cosa fa? Ha un problema e mette a bando l'individuazione di una soluzione. Ora questo tipo di bandi sono più complessi, più costosi, richiedono un certo livello di competenze delle pubbliche amministrazioni, ma non sono impossibili da attuare, quindi non ci dobbiamo far spaventare da questa cosa. Oppure cosa si può fare? Si possono utilizzare gli appalti in modo innovativo. Cosa significa? Significa pensare di utilizzare gli appalti non solo, e quindi la spesa pubblica, non solo come un modo per in qualche modo muovere o generare una parte di PIL, ma anche come un modo per utilizzare la spesa pubblica per ridurre le disuguaglianze. Pensiamo ad esempio a tutti quegli appalti, a tutti quei casi in cui vengono date in appalti da ospedali pubblici, piuttosto che dalle scuole pubbliche, i servizi di pulizia e di mensa. Una soluzione, un utilizzo innovativo di questo tipo di appalti sarebbe quello di introdurre delle clausole premiali a chi garantisce ad esempio determinati standard nelle condizioni di lavoro o determinati standard, ad esempio quando si parla di mensa, scusatemi, nella fornitura del servizio, nel tipo di alimenti che vengono forniti. E anche in questo caso si tratta di soluzioni che possono essere applicate anche in comuni molto piccoli o anche in quei comuni in cui non esistono tutte quelle competenze tecniche che sono invece necessarie per gli appalti precommerciali o per soluzioni innovative di cui parlavo prima. Un altro esempio pratico, concreto di quando queste cose, perché esistono degli esempi in cui queste cose vengono fatte. Penso al protocollo siglato dal comune di Bologna per quanto riguarda gli standard in termini di qualità del lavoro, in termini di qualità del lavoro per tutti i servizi che vengono appaltati o ancora penso al fatto che in due regioni che sono la Campania sicuramente e la Toscana, Cittadinanza Attiva, che è questa organizzazione appunto di Cittadinanza Attiva che si occupa di varie tematiche tra cui la tutela dei diritti del malato, ha con la regione fatto un protocollo perché quando si decide di acquistare delle protesi che vengono poi fornite gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, nella procedura di acquisto vengano coinvolti sia esperti del Servizio Sanitario Nazionale ma anche gli utenti che sono quelli che poi dovranno utilizzare le protesi. Perché? Perché banalmente spesso vengono acquistate, per fare l'esempio pratico, protesi che però hanno generano dei problemi nel paziente e questo viene fatto semplicemente perché chi poi usufruisce di quei servizi non è ascoltato precedentemente. Sono tutti esempi concreti di casi in cui cambiamenti davvero piccoli, perché in alcuni casi sono cambiamenti davvero piccoli, potrebbero sostanzialmente migliorare non solo l'efficienza e l'efficacia della spesa ma anche la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine che poi sono i destinatari finali dei servizi che vengono dati in affalto. E io su questo mi chiudo e poi ovviamente sono pronta a rispondere a tutte le vostre domande e passo la parola ad Andrea. Non so se volete avere un attimo di pausa tra i due terreni in modo che si possono avere domande specifiche o se vado avanti io sui patti educativi. I due argomenti sono per alcuni versi simili sulle procedure di coprogettazione ma sono molto diversi. Come preferite voi? Qualcuno ha domande fra i presenti? Magari il concetto matura in mente e poi... Pino di Gesaro, vai accendi il microfono, sì. Buonasera. Io ho più che una domanda era una constatazione che che stavo facendo in base a quello che ha detto poco fa chi mi ha preceduto che mi sfugge il nome in questo momento. Cioè questa cosa degli appalti innovativi o dei nuovi appalti perché sulla cosa delle piccole e medie imprese mi trovo perfettamente d'accordo. Anche questa mi trova d'accordo e sono cose che apprezzo. Però mi scuote dentro e tu sai che io mi scuoto per niente caro Giuseppe. Mi scuota dentro il fatto che debbano occuparsi di queste cose persone che hanno da fare altre cose quando chi è decisore come si diceva all'inizio non riesce a concepire che le cose vanno studiate insieme fra chi le fa e chi le deve utilizzare. Cioè io darei per scontato che se un comune deve fornire un servizio e il servizio consiste nella fornitura di protesi è chiaro che non mi affido solo a chi le costruisce ma a chi a chi poi le deve usare. Invece da quello che capisco questo fino ad ora non viene fatto perché ci vuole in mezzo la cittadinanza attiva, ci vuole in mezzo il tribunale del malato, ci vuole in mezzo il forum che queste cose le deve segnalare come fattori di uguaglianza o diminuzione delle disuguaglianze. Spero di non scuotermi ancora per tutta la sera perché prevedo che le cose che nella mia testa da molto tempo dopo scontate vedo che emergono sempre di più e sono sempre di più oggetto di studio da parte delle persone che studiano ma che poi non si ritrovano a essere fra quelli che decidono. Grazie. Grazie. Ovviamente diciamo il suo punto di vista è chiaro e ovviamente abbiamo assistito negli ultimi anni a progetti o comunque azioni sul territorio che hanno seguito un percorso che in gergo si chiama top down, no? Quindi diciamo un po' calato dall'alto e poco rispondente ai bisogni della della cittadinanza. È ovvio nella mente di tutti per logica ovviamente si parte da un problema e quindi si effettua, si crea un servizio per andare a risolvere quel problema. Sarebbe diciamo scontato però come sottolineava Pino poco fa, non lo è. Questo concetto molto interessante dovremmo dovremmo affrontare un incontrapparte per cercare come andare a capire quali sono i reali problemi da andare a risolvere e individuare soprattutto i soggetti con cui dialogare per andare a risolvere quei problemi. Io aggiungo una cosa piccolissima, nel senso quello era un esempio che era quello che mi sembrava più eh insomma pratico lampante. Aggiungo eh per consolare il signore che mi ha proceduto prima che in alcuni casi anch'io sono rimasta stupita che alcune cose già non si facessero. Quindi purtroppo a volte quelle che sembrano delle soluzioni di buon senso eh si scontrano un po' con eh come diceva prima Giuseppe un approccio eh top down, no? Quindi che viene dall'alto. Io decisore, io so cosa è meglio e soprattutto spesso queste gare vengono fatte in qualche modo ehm quando si tratta di eh servizi di prestazioni sanitarie si tiene conto anche di alcuni standard minimi di qualità eh che però non necessariamente vanno incontro poi a quelle che sono le esigenze pratiche del paziente. In altri casi come ad esempio il servizio di mensa e di pulizie spesso le aste e le appalle gare sono fatte e così dette gare al massimo ribasso. Quindi considerando soltanto purtroppo si è andata avanti considerando soltanto il versante costo e mi zittisco ora. io volevo non so se mi sentite bene spero di sì eh intanto volevo ringraziare eh tutte e due i componenti del del forum che sono qui con noi questa sera e volevo eh porre una domanda a Patrizia Luongo se eh esistono diciamo e se il forum ne è a conoscenza di eh bandi eh diciamo che abbiano queste caratteristiche di cui eh avete parlato che le pubbliche amministrazioni hanno messo in campo per esempio nell'ambito del che ne so dell'efficientamento degli edifici o eh su altri tipi di eh di interventi come che ne so da costruzione di qualche servizio eh sociale che sia necessario al al comune. Allora sono stati fatti eh sui sulle mense sì poi magari mentre parla Andrea cerco anche qual è il comune eh c'è un esempio in Italia sull'efficientamento energetico non c'è un esempio in Italia però c'è un esempio eh ad esempio scusate in gioco di parole in un ospedale polacco eh in cui sono stati utilizzati proprio questi bandi eh per soluzioni innovative eh per capire come ridurre di due gradi ehm la temperatura eh all'interno dell'ospedale eh in giornate particolarmente calde quindi è stata poi ha vinto questa eh questo appalto una società che ha proposto di mettere dei pannelli solari sui vetri quindi pannelli solari sulle finestre oscuranti questo questi si proteggevano dal calore nelle giornate di calore estremo quindi d'estate e invece eh in questo modo accumulavano anche energia e quindi riutilizzavano quell'energia eh pulita. Mh in Italia che io sappia no però questo non significa che non sia stato non sia stato fatto. Ovviamente da quello che intuisco si deve andare ad incidere proprio sulla costruzione costruzione del bando. Quindi nel momento in cui ehm chi eh preposta a costruire il bando può essere il comune può essere ehm un'entità sovraterritoriale diciamo da noi accade spesso anzi ormai eh molto frequentemente e ovviamente soprattutto sui grossi progetti si agisce a livello sovracomunale. Ecco si deve andare a si agisce appunto nel momento di costruzione del bando quindi quando si costruisce il bando si deve già pensare e lì credo credo almeno lo chiedo a voi e credo che sia lì che si innesti il momento partecipativo. Cioè nel momento in cui si costruisce il bando si va a parlare con i diretti interessati e eh si capisce eh da quali esigenze partire no? Esatto. È proprio nel momento del disegno della gara d'apparto. In modo tale che questa sia disegnata appunto eh conformemente sia un abito su misura. Eh la famosa frase one size fits all che che non funziona. Che non funziona. Per quanto riguarda invece il molto interessante la la prima proposta della collaborazione fra centri di ricerca e e imprese. Io sono assegnista ricercatore insomma precario al CNR quindi eh ma a volte anche noi ci siamo occupati di di questo tipo di insomma azioni. Peraltro io stesso collaboro con uno dei tanti fra un offer quindi eh conosco un po' quella realtà. Ehm nelle piccolissime realtà come la nostra dove eh un certo tipo di impresa è preminente cioè non so esistono dei territori in cui le le imprese tessili sono più forti nel nostro caso può essere l'edilizia. Io immagino che la singola impresa edile formata da non so dieci quindici dipendenti massimo non abbia la forza di eh proporsi eh per per un'azione del genere. Però e qui rientra un'altra un'altra idea eh che abbiamo già messo in moto per eh il turismo eccetera. Una forma consorziata delle per esempio delle imprese eh edili faccio l'esempio dell'edilizia perché diciamo è quella preeminente al nostro territorio una forma consorziata può accedere a questo tipo di ehm di azione a questo tipo di di proposta cioè per esempio il recupero del materiale tradizionale con la proposta di una soluzione tecnologica innovativa può essere di interesse per tutte le imprese che da sole non magari non hanno la forza di interfacciarsi con le università con i centri di ricerca non hanno la forza di partecipare per esempio a progetti Horizon su cui si lavora molto però in forma consorziata sì quindi questa potrebbe essere una via poi per applicare quel tipo di idea che è assolutamente interessante io sono nella controparte del di quel mondo però eh le piccolissime imprese penso che debbano cioè si debba suggerire questa via ecco no no è assolutamente giusto quello che dici ma immaginando però anche un'altra cosa cioè che laddove non è l'impresa che va dalla dal centro di ricerca è il centro di ricerca che è consapevole di quanto la sua il risultato della sua ricerca può essere utile ad esempio al settore dell'edilizia propone una collaborazione è chiaro che da sola la microimpresa con dieci dipendenti non ce la può fare probabilmente la microimpresa di dieci dipendenti con dieci dipendenti è anche troppo impegnata a dover sopravvivere per poter pensare forse c'è una soluzione cioè non perché non ci arriva semplicemente come no quando pensiamo a quelle famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e non pensano quindi allo step successivo così l'impresa che in qualche modo deve cercare di mantenere a galla la baracca passatemi la definizione informale può non avere immediatamente in mente che per suo quel suo problema c'è una soluzione che può gli può arrivare da e quindi sicuramente una una possibile soluzione è quella di mettere insieme tutte queste piccole imprese l'altra è quella che invece chi fa ricerca può direttamente proporre no all'impresa o alle imprese che operano in quel settore la soluzione però sicuramente un rapporto eh di univoco ecco diciamo così un'ultima domanda prima di passare o cioè o meglio poi magari ci ritorniamo prima di passare alla terza proposta sempre ritornando alla agli appalti partecipati gli appalti innovativi negli esempi che sono stati citati diciamo come si sono svolti questi momenti di di dialogo fra l'ente proponente e la parte interessata cioè hanno hanno fatto degli incontri dedicati sono state fatte delle manifestazioni di interesse non so qual è poi lo strumento mediante il quale si realizza la partecipazione alla alla costruzione del band allora eh ti faccio un esempio pratico nel senso che secondo me poi funziona diversamente un po' a seconda del tema un po' a seconda del territorio e così via ehm quando eh allora in in Lombardia eh per fare delle una gara d'appalto per dei per capire quali erano i fabbisogni scusami in ambito sanitario eh in un determinato ambito specifico sanitario sono stati dati eh dei eh dei dei questionarii veri e propri nelle strutture di cura sottoposti sia al personale medico eh socio sanitario che lavorava sia ai pazienti poi è chiaro che dipende nel senso che eh come tutte le cose partecipate ovviamente eh il grado di difficoltà varia a seconda del della dimensione che teniamo in conto no? Nel senso che un conto è un piccolo comune come Petralia un medio comune come quello di Potenza un comune una città metropolitana come quella di Roma quindi è chiaro che anche la dimensione del confronto eh che non significa che non debba esserci semplicemente che è strutturato in modo per forza di cose è strutturato in modo diverso ehm però eh è e sicuramente in parte eh rende anche più lento eh il processo di definizione eh della gara d'appalto è indubbio che sia così no? Perché un conto è che c'è una persona o sola che si mette a tavolino con il suo staff fa una riunione e decide come fare una gara d'appalto un conto è dover ascoltare eh diverse realtà sul territorio che poi possono essere anche ascoltati ad esempio attraverso ehm organizzazioni di rappresentanza torno all'esempio di cittadinanza attiva per fare l'esempio eh dei 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 malati dei pazienti di chi usufruisce dei servizi sanitari eh quindi va calibrato a seconda di quella che è l'esigenza e eh però va fatto a priori coinvolgendo o attraverso metodi di confronto o in alcuni casi quando sono cose in qualche modo più codificabili attraverso un questionario eh in un modo anche attraverso questo metodo partecipativo non so se ho risposto bene eh cioè in modo chiaro alla tua domanda. Volevo fare una domanda sono Franca Farinella eh nel caso in cui è capitato qui da noi in pratica il comune un ente pubblico deve dare in appalto un bene. È capitato io faccio per chi è di qua per esempio la pineta oppure la piscina o cose di questo genere e o vanno diciamo la richiesta che io sappio non sono un esperto non sono un'esperta che io sappio viene richiesto una quota economica che spesso non cioè non porta a niente non 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 ha dato nessun tipo di risultati né in termini di guadagno dell'ente pubblico né in termini di servizio per la comunità cioè come si fa ad approcciare bene un un apparto di questo genere siccome appunto noi ci poniamo eh come diciamo eh idea di poter diciamo governare un paese di poter andare avanti e nel nel nostro paese ci sono dei beni eh che sono diciamo andati in decadenza proprio perché eh gli appalti non hanno funzionato quindi come si può eh diciamo eh si può fare per per far funzionare un apparto di questo genere ma ha ha senso e ehm e e quindi con con la premessa ehm che non non conosco bene il metodo di funzionamento di questo tipo di appalti mi viene da dire che il metodo per capire eh quale uso a quale uso destinare un bene pubblico che è eh che può essere il bene pubblico confiscato piuttosto che un bene pubblico che non viene utilizzato e è dismesso anche in questo caso può essere quello delle consultazioni cittadine no? Eh nel senso capire eh un po' qual è un bisogno rilevato e quindi con una una sorta di analisi no? Di quello che manca eh non so eh penso a manca una struttura in cui eh i ragazzi possono praticare sport la sto sperando così a caso piuttosto che manca una uno spazio un parco all'aperto quindi rilevazione da un lato di qualcosa che oggettivamente manca ma dall'altro capire anche se una determinata cosa manca perché eh perché non non c'è l'offerta o non c'è la domanda eh cioè la palestra per i ragazzi eh nel mio quartiere non c'è perché l'età media nel mio quartiere è settant'anni e quindi nessuno la utilizzerebbe o perché eh ci sono tantissimi ragazzini e ragazzine ma non hanno uno spazio per da dedicare le attività fisiche quindi prima una rilevazione di quello che eh di quello che potrebbe essere l'uso perché un determinato un determinato servizio manca e poi una rilevazione di quello che è il bisogno e quindi di come eh ripeto attraverso consultazioni che possono essere di quartiere o comunali a seconda della dimensione di quella che è l'esigenza eh rilevata dalla cittadinanza e poi destinare quel bene quella struttura a quell'utilizzo la difficoltà che abbiamo che c'è qui è che in effetti ci sono le strutture però nella realtà eh non non funzionano non perché poi c'è una mancanza di guadagno da parte di chi le prende ma comunque è una responsabilità di chi ce l'ha anche evidentemente cioè c'è qualcosa che non ha funzionato da questo punto di vista sicuramente eh eh cioè noi abbiamo dei beni inutilizzati o dei beni appunto in decadenza che possono essere le palestre che può essere la piscina che può essere un parco pubblico che per noi le chiamiamo la pineta e che eh potrebbe avere tante potenzialità la richiesta che io sa che almeno i ragazzi mi possono non so se sanno altro c'è il comune ha chiesto soltanto diciamo un un'annualità economica però secondo me invece rispetto a quello che prima diceva lei cioè si dovrebbe eh richiedere anche appunto a partire dai bisogni che cosa dovrebbe fare e poi aiutare in altri sensi non so eh dovrebbe forse ci vorrebbe anche proprio un aiuto nel per un ente pubblico nel nello stabilire nel nel cercare di capire come far funzionare queste cose perché poi c'è il ritorno diciamo eh non il comune non deve cercare il ritorno economico secondo me deve cercare il bene e diciamo non ci deve perdere ma deve cercare e se vogliamo diminuire le disuguaglianze vuol dire che si deve stare meglio tutti devono stare meglio in qualche modo io sono d'accordissimo con lei e questo mi riporta un po' al punto che dicevamo all'inizio che un'azione non va fatta di per sé cioè io non devo pensare che devo dare in gestione quello spazio che mi sta andando in decadenza perché devo averne un ritorno economico io penso che do in gestione quello spazio visto che ora stiamo parlando di questo tipo di appalti perché ho una visione su quello che può essere l'utilizzo e l'impatto dell'utilizzo di quel bene su eh una determinata dimensione che sia disuguaglianza nell'accesso al verde disuguaglianza nell'accesso allo sport o altro che ci può venire in mente l'idea dovrebbe essere quella però di nuovo è perché dietro deve esserci una visione sì grazie patrizia ah scusate no no prego no no prego prego volevo solo fare una domanda velocissima per chiudere per chiudere la mia da parte mia è l'ultima poi andiamo vediamo se ce ne sono altri ma penso che andremo a toccare l'altro importante tema di questa di questa sera la cosa che chiedevo è questa noi il il nostro comune è un comune che è estremamente appunto c'è appunto un'altra domanda estremamente dotato di strutture come giustamente la signora Franca Farinella ha detto ed è un comune che eh tra ex conventi palestre piscine palazzetti anche se siamo un comune piccolo ha un patrimonio immobiliare notevole che ultimamente è stato messo a bando tra l'altro con un bando perdonate la ripetizione che si chiama valore paese in cui ha partecipato sta partecipando attualmente a livello di consulenza anche Sibater quello che è quello che mi pare di di poter rilevare è che il modo in cui stanno tentando di operare di mettere a bando determinati eh determinati immobili possa essere eh in linea teorica interessante quello che mi chiedo però è se questo come altri bandi naturalmente come abbiamo detto uno non convenga che eh diciamo siano costruiti insieme alla cittadinanza attraverso delle rilevazioni progressive che arrivengano nel tempo eh due che non possono prevedere che eh ecco qua mi aiuterai a capire meglio se possono prevedere che al posto dei canoni o almeno buona parte o quasi tutto venga dato in servizi dipende il tipo del dell'immobile in servizi che abbiano un'importanza per la per la comunità e se eh 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 possibile immaginare ma non so se questo cozza con dei principi di legge che ci sia una priorità per eh associazioni o cooperative del terzo settore che siano ricadenti eh nel nel territorio eh spero di aver esposto bene le domande ed essere stato chiaro allora sul primo punto certamente sì e quindi l'idea di fare dei bandi eh disegnare dei bandi in modo partecipato sul fatto che ci siano delle norme che ostano a dare premialità a organizzazioni del terzo settore che io sappia no però mi mi potrei sbagliare magari Andrea invece che è più attivo su questo ci sa dire se se è così e eh sulla parte di gestione finanziaria allora sicuramente la la semplicemente il mantenimento di un edificio in funzione ha dei costi quindi eh bisogna prevedere che in qualche modo che sia da parte del comune piuttosto che sia da parte di chi vince il bando quei costi vanno sostenuti per evitare la decadenza banalmente ulteriore della della struttura ehm però ehm si può anche immaginare che una parte dei costi siano sostenuti dal comune e una parte invece siano forniti attraverso servizi dalle organizzazioni. Il punto è un po' sempre lo stesso cioè in un in un vivendo in un mondo di risorse anche economiche finite no? Eh l'idea di come un comune decide di investire le proprie risorse perché anche il comune ce le ha finite, ce le ha finite per tutta una serie di motivi e l'idea di come decide di investire quelle risorse è indicativo di quelli che sono gli obiettivi a cui viene data la priorità. Eh quindi eh immaginando che ci siano dei limiti e dei vincoli di spesa per cui magari in un piccolo comune eh in cui non ci sono eh le risorse per tenere attivi e recuperare tutti gli spazi però immaginare di riuscire a recuperarne alcuni che abbiano una finalità sociale e finanziare quella spesa attraverso le entrate la attraverso la spesa pubblica dà già un'idea di quelli che sono gli obiettivi gli obiettivi prioritari detto con insomma la cognizione che siamo tutti realisti tutto non si può fare non solo perché eh in alcuni casi perché non si vuole in altri casi perché oggettivamente eh ci sono dei vincoli di spesa eh che che vanno vanno rispettati. Prima di passare la parola a Maurilio che aveva chiesto di intervenire faccio un esempio proprio pratico velocissimo citando il caso della Pineta che giustamente ehm sottoponeva la la signora Franca eh per esempio ehm si potrebbe si potrebbe dire eh anziché richiedere un canone anno di duemila euro non so cinquemila euro quello che è ne richiedo la metà però chiedo come clausola che eh la società che prende in gestione quel bene debba per esempio organizzare un laboratorio per i disabili o per i bambini quindi il il ritorno per l'ente non è economico ma è non solo un servizio ma soprattutto un servizio teso a ehm eliminare una forma di diseguaglianza o comunque ad agevolare una una fascia debole o protetta per esempio ho fatto un esempio proprio che mi è venuto così in un in un istante però penso che il concetto generale sia questo eh il vero ritorno poi sta nel guadagno sociale chiamiamolo così esattamente mh vai Maurilio grazie grazie a tutti grazie Giuseppe grazie a voi per il contributo grazie al forum per il contributo io avevo più che altro una curiosità ehm tema della visione è un tema che mi pare essere il comune denominatore sia nell'ambito di appalti che nell'ambito di alleanze di natura di natura imprenditoriale però per definizione la visione è una eh ci pone in una prospettiva economica di medio lungo periodo ecco io chiedo probabilmente in modo un po' eh negli appalti pubblici nella nella vita economica e nello sviluppo economico ci sono delle dinamiche di lungo termine che sono presidiate da un tema di visione che poi è quello che consolida uno sviluppo duraturo ma ci sono anche delle dinamiche politiche burocratiche di brevissimo termine ecco mi chiedo come questa azione a supporto della visione eh si confronti o faccia i conti tra virgolette scusando il gioco di parole con dinamiche politiche di corto raggio piuttosto che con dinamiche burocratiche per esempio sul tema degli appalti cito o eh diciamo ho subito pensato a ehm agli appalti di cui parlava lei dottoressa Longo eh relativi ad esempio alla le pubblici ecco come si concilia ad esempio in un eh in un eh in una concezione in cui o meglio in una gestione degli appalti in cui l'ente pubblico deve andare dentro deve accedere a delle centrali di committenza ad esempio dove nove volte su dieci il principio di economicità sovrasta a tutti gli altri come si pone e diciamo eh o come si marca la differenza con una visione di quel tipo che magari va contro il principio di economicità che la Consi, il Mepa ora io ne conosco diverse per lavoro invece propongono come condizione eh quasi come condizio sine qua non per eh aggiudicare un appalto ecco. E poi un'ultimissima domanda sempre rispetto alla visione eh la visione è anche di natura strategica tradotto se io attivo un canale di dialogo tra l'università e le PMI quindi il mondo imprenditoriale. La visione di natura strategica probabilmente mi porta a prediligere un certo tipo di imprenditoria a scapito di un'altra piuttosto che a incentivare un certo settore anche che una c'è anche una valutazione di questo tipo nella eh proposta eh di di formulazioni eh diciamo a supporto delle PMI eh come quelle che voi proponete o che avete studiato e allora parto dall'ultima domanda l'idea non è quello di favorire la collaborazione tra università e imprese che operano in un determinato settore l'idea è quella di favorire la collaborazione tra università e imprese poi ogni ogni impresa collaborerà con quella parte di ricerca che è più vicina al tipo di produzione che fa vero è che ci vogliono delle scelte strategiche ci vorrebbe una politica industriale nel paese purtroppo la politica industriale nel paese assente ormai da anni eh è chiaro che alcune scelte vanno fatte nel senso che se pensiamo banalmente alle richieste di che ci arrivano dall'Europa ma che eh se non ci arrivassero dall'Europa comunque con cui dovremmo fare i conti quella della transizione ambientale è chiaro che dobbiamo in qualche modo reindirizzare eh il nostro sistema produttivo verso alcuni tipi di ehm produzioni che siano eh più sostenibili da un punto di vista ambientale questo cosa significa che eh ci concentriamo su alcuni settori produttivi e lasciamo morire gli altri no significa che sicuramente ci concentriamo su cioè quello che dovrebbe fare una politica industriale lungimirante è dire io mi concentro con investimenti piuttosto che favorendo eh l'innovazione e la ricerca in un determinato settore allo stesso tempo mi preoccupo già di quei settori che so che tra dieci anni saranno scomparsi che non significa occuparsi del settore che sembra occuparsi è come se ci occupassimo di un'entità non esistente significa capire come reindirizzo quel tipo di produzione come riformo quei tipi quella particolare categoria di lavoratori e lavoratrici di modo che non si trovino da qui a cinque a dieci anni ad avere delle competenze che sul mercato del lavoro non servono più e ad avere un'età che non gli consente neanche di reintrodursi facilmente nel mercato del lavoro però questo è un altro discorso rispetto a quello della collaborazione tra imprese piccole medie imprese e università che invece riguarda tutto il sistema produttivo quindi indipendentemente da quella che è eh da quello che è il settore produttivo quello della politica strategica industriale eh è invece un discorso sicuramente complementare a quello ma ma non è quello il punto andrebbero fatte di pari passo le due cose e questo per rispondere all'ultima domanda eh la prima invece ehm allora eh sì il problema è che siamo stati negli ultimi trent'anni eh guidati da scelte politiche di breve termine che poi hanno portato a un risultato di lungo termine perché come diceva qualcuno in lungo termine un altro non è che una somma dei risultati del breve termine eh e quindi eh e è inevitabile che la visione che abbiamo per quello che vorremmo accadesse tra dieci anni nella nostra città nella nostra regione o nel nostro paese eh dipende da quello che facciamo già oggi domani o dopo domani quindi eh bisogna agire nel breve con l'obiettivo del lungo e quindi con la visione del lungo periodo questo sicuramente. Quello che diceva lei che eh non si può in alcuni casi fare non credo altrimenti perché il comune di Bologno e il comune di Napoli hanno invece firmato dei protocolli perché legare da nelle gare d'affalto proprio su quei servizi eh garantiscano determinati eh standard qualitativi ma anche eh quantitativi cioè in termini di contratto e di salario per determinati lavori si può fare e il fatto che eh esistano degli esempi ci serve non per dire quanto sono stati bravi Napoli e Bologna eh ma per dire sì bravi Napoli e Bologna ma anche per dimostrare che determinate cose si possono fare anche nell'attuale quadro normativo in realtà e per quanto riguarda aggiungo un'altra cosa piccolissima ehm le lentezze burocratiche il problema delle competenze della pubblica amministrazione in alcuni casi sono un problema ed ed è questo uno dei motivi per cui eh una delle proposte trasversali del forum trasversali significa che è quella che eh faciliterebbe la realizzazione di quasi tutte le altre è quello di investire nelle competenze della pubblica amministrazione. Eh spero di aver risposto alla sua domanda. Non so Andrea credo volessi aggiungere qualcosa se non ci sono altre domande. Sì nel senso che arriverei ai patti però stando su questa fila di ragionamento nel senso che proverei proprio nel concreto a raccontare un'esperienza di bando partecipato che ha anticipato la logica dei patti nel concreto così ve lo racconto però fatemi partire da due cose una dalle cose che ha detto Giuseppe Pino di Cesaro all'inizio quello che si è scosso. Se ho capito bene il termine del 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 concetto di scosso insomma che che capisco. Lui ha detto due cose importanti secondo me. Le cose andrebbero studiate insieme tra chi le fa e chi le deve usare. E esattamente questo è il punto in cui c'è stata la cesura tra politica e società. E l'altra cosa importante che lui ha detto ho l'impressione che quelli che studiano ma non riescono mai poi diventare quelli che decidono. Segnalando una certa incompetenza dei decisori della politica. Questi due elementi sono elementi di rimenti. Sono i due elementi che hanno drammaticamente rotto il rapporto tra politica e società. Quindi li volevo riprendere perché da come gli ha detti meglio proprio rilanciare. Anzi magari faccio il copyright qualche volta li uso in qualche conto. Detto questo certo che ci sono gli strumenti. Voi sapete che in Italia c'è una legge la 381 del 91 quella sulla cooperazione sociale che prevede che è una cooperativa sociale di tipo B cioè una cooperativa che è sociale perché rinserisce al lavoro soggetti fragili che altrimenti non proverebbero lavoro disabili detenuti eccetera. Può prendere un appalto diretto dalla pubblica amministrazione fino a 200 mila euro. Ok? Questa roba qui non è più usata da nessuno perché abbiamo una classe dirigente dei comuni che ha paura anche dell'ombra sua che prende gli stipendi al dirigente e non si assume responsabilità. Gli strumenti ci sono. Quando ho fatto l'assessore a Giuliani in campagna dal 2005 al 2010 alle politiche sociali giovanili con questa legge io ho assunto attraverso una cooperativa dieci persone che erano cronicamente assistite con leggi di settore con contributi in attantum e ho chiesto a una cooperativa di fare una partita di giro e me gli assunti con un appalto di 180 mila euro io ho tolto dal comune una spesa a perdere e ho migliorato la vita di dieci persone. Si possono fare le cose. La stessa Comunità Europea ti dice che si possono fare i partenariati. C'è il codice, poi ci tornerò sull'esperienza che dico, c'è il codice del terzo settore della legge del 117 del 2017, poi ripresa dalle linee guida del Ministero del Lavoro che poi vi giro, che dice che la coprogettazione e la coprogettazione sono strumenti di politica pubblica. La coprogettazione e la coprogrammazione. A partire dall'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà. Quindi attenzione, quando vi dicono che non ci sono strumenti, non è vero. Come quando dicono che non ci sono i soldi, non è vero. In questo Paese stanno arrivando la cifra più alta mai vista dal dopoguerra oggi di denaro e il modo con cui questa cifra è stata messa in giro urla vendetta, in completa assenza di dialogo sociale. Non si sa chi ha scritto le schede. Guardate, sto collaborando col Ministero dell'Istruzione. Non sono riuscito da dentro a capire chi cazzo aveva scritto le schede sulla povertà educativa. e poi tornerò anche su questo, perché giustamente Mauriglio Fina diceva prima ma c'è la legge, no? Voglio dire, sull'economicità. Certo che c'è quella cosa lì, ma per forza questo significa di usare le gare al massimo ribasso? No, perché c'è l'offerta economicamente più vantaggiosa che unisce il miglior prezzo economico al radicamento territoriale, alla qualità del servizio, alla tradizione di intervento. Perché è chiaro che si usa la gara al massimo ribasso, inevitabilmente è l'unico parametro della spesa e quando la uso sui servizi sociali ed educativi faccio danni, perché qualunque sia l'ente che prende l'appalto per risparmiare deve o non pagare i lavoratori e i lavoratrici o abbassare la qualità del servizio. Le politiche pubbliche possono orientare le scelte e le dinamiche sociali ed economiche e culturali che ci sono intorno ai temi. Le politiche sull'immigrazione di questo paese trasversalmente agli ultimi governi degli ultimi vent'anni hanno svuotato le politiche di inclusione per favorire la politica di gestione dell'emergenza, determinando non soltanto danni perché attraverso queste politiche ha colpito chi faceva servizi di qualità e ha permesso al profit mascherato da no profit di entrare nel mercato sociale, ma ha creato danni perché ha determinato politiche di paura perché quando io sono un anziano di un paese di un'area interna, di un paese di qualsiasi e in televisione sento che c'è la grande invasione dei migranti cosa non vera perché i numeri non sono da invasione, ma vicino a casa mia aprono un centro d'accoglienza straordinaria con 300 posti, giocato tutto sul massimo ribasso, senza un minimo di accoglienza costruita sulla qualità e quindi con le persone buttate fuori dai centri alle otto del mattino e riprese alle otto di sera e quindi quel anziano senti in televisione che c'è l'invasione, va nella piazza del suo paese e trova 300 immigrati seduti dice allora è vero che ci invadono e allora voto Lega o comunque mi faccio prendere dal senso dell'invasione, la paura e quindi deriva autoritaria, rimandiamoli via. cioè le politiche fanno, le scelte amministrative possono andare in una direzione o nell'altra, poi il suo tempo dopo ci torno su questo aspetto ma non è non è l'oggetto ma ci vorrei tornare anche con degli esempi concreti. Questo proprio in premessa, scusatemi, e guardate quando c'è opacità come oggi sul PNRR, per questo è importante, noi come forum abbiamo scelto di venire nei luoghi come stasera perché l'unica salvezza sono i territori, dove si può ancora in qualche maniera ripristinare un minimo di democrazia dentro l'uso di questi fondi perché se rimane l'opacità noi andiamo in tre direzioni o spendiamo male le risorse questo è un PNRR fatto per spendere non per misurare l'impatto o le risorse verranno orientate non sul benessere collettivo ma sugli interessi privati, tre peggio voi sapete bene come so bene io a Napoli, gli interessi criminali e illegali che entrano dentro. Scusatemi ma questa era la premessa che mi veniva anche da ascoltando, ascoltando voglio dire le domande che avete fatto a Patrizia rispetto agli apparti. Ci sono modi diversi di fare gli apparti e allora io qui e vengo sui fatti educativi vi racconto un'esperienza nata nel 2010 ben prima che si parlasse dei fatti educativi prima amministrazione dei magistri quindi non l'attuale quella prima guidata dall'assessora alla scuola del comune di Napoli Anna Maria Palmieri donna di scuola docente adesso preside a Torino presidente del Cidi che diventa assessora mi chiama dentro suo staff con responsabilità sulle politiche di contrasto alla povertà educativa e gli alunni con background migratorio e insieme costruiamo questo tipo di percorso che segue esattamente quello che dice una legge non è una politica creativa di un'amministrazione evoluzionaria con la bandana no no una legge che la legge 117 del 2017 e dice l'articolo 55 dice la pubblica amministrazione assicura il coinvolgimento del terzo settore per che cosa per la coprogrammazione prima cosa e cosa serve la coprogrammazione a individuare i bisogni gli interventi le modalità per realizzarsi le risorse necessarie e quindi cosa fa l'amministrazione dice bene dobbiamo rifare le politiche sulla povertà educativa del comune di Napoli siamo competenti lei donna di scuola io già lavoravo sulla scuola sull'educazione potevamo metterci in uno stanzino e a partire dalla nostra idea fare le politiche e invece abbiamo fatto una cosa diversa abbiamo aperto un laboratorio permanente per sei mesi che si riunivano i 15 giorni in cui abbiamo invitato 35 scuole che erano quelle che avevano i numeri più alti sulla dispersione scolastica e fallimento formativo i servizi sociali territoriali e gli enti del terzo settore che lavoravano con quelle scuole l'azienda sanitaria e apriamo questo laboratorio con una domanda ma rispetto a quello che si fa cosa sta funzionando cosa non sta funzionando quali sono le mancanze quali sono gli sprechi lavoriamo per sei mesi ogni 15 giorni tavolo governato dall'assessorato a forti indirizzo pubblico che discute con questi soggetti da questa discussione vengono fuori degli elementi non di modello eh perché questo è un paese troppo diverso per tirare fuori dei modelli replicabili dovunque e comunque financo a napoli contrastare la povertà educativa scampia non è come farla ai quartieri spagnoli o a fuori grotto figuriamoci in un paese dove abbiamo le aree interne come la vostra la periferia napoletana il comune medio come pisa voglio dire ed altre cose ma vengono fuori delle indicazioni degli indirizzi di orientamento curricolare stracurricolare le famiglie adesso non entro nel merito diciamo questi indicatori vengono assunti dentro a delle linee comunali di contrasto alla povertà educativa che vengono portati in giunta dall'assessore all'istruzione con l'assessore al guelfa e diventano atto pubblico cioè diventano le politiche del comune di Napoli che fa un atto politico in cui dice questa amministrazione le sue linee di indirizzo sono quelle che nascono dal laboratorio partecipato come diceva giustamente prima Pino di Cesaro in quel caso chi chi decide lavora con chi vive quelle cose costruisce insieme le politiche ne fa diventare atto politico dell'amministrazione comunale ok primo passaggio io la dico così prima cessione di potere sugli indirizzi perché guardate sono tanti anni che faccio questo mestiere io non ne posso più delle consulte sono anni che mi consultano e non cambia mai un niente io vado a sedermi a un tavolo se se la pubblica amministrazione se quel decisore decide qui quel tavolo è anche un tavolo di condivisione di potere perché altrimenti prendiamo in giro le persone massacriamo la partecipazione poi dopo di che sempre famosa legge codice del terzo settore c'è un secondo articolo che dice che il secondo livello di coinvolgimento del terzo settore è la coprogettazione quindi definizione eventuale realizzazione degli interventi specifici progetti finalizzati a soddisfare quei bisogni che sono emersi dalla coprogrammazione e allora cosa facciamo vi posso girare tutto eh si fa un avviso pubblico che è una manifestazione di interesse in cui chiediamo ai soggetti del terzo settore però in qualche maniera orientandogli a costruire reti con le scuole dei territori dividendo il territorio in alcune aree più colpite dal fenomeno a dirci se volevano stare ai tavoli di coprogettazione dentro a quelle cornici gli chiediamo ma voi volete coprogettare su questi piani sul curricolare e stracurricolare sull'orientamento atteso come longitudinale sul coinvolgimento delle famiglie sui programmi personalizzati su interventi preventivi sulla rigenerazione urbana sulla scuola che si apre il territorio ci volete stare se ci volete stare con quali idee facciamo una manifestazione di interesse guarda caso nei quattro territori si presentano quattro reti senza competizione perché nel frattempo quel laboratorio di sei mesi aveva costruito legami tra quei soggetti che per una volta non vanno in competizione e quindi si presentano insieme alla fine vengono coinvolte 62 scuole nei laboratori territoriali e quindi quando questi laboratori vincono cosa succede che quegli indirizzi sono utilizzati per la coprogettazione in sede locale per declinare quegli indirizzi in politiche che servissero per quei territori faccio un esempio un preside dice nella mia scuola il primo intervento che devo fare abbellire gli spazi scuola perché sono talmente brutti che io non riesco a dire un ragazzo di una scuola perché mi sembra di prenderli in giro e quindi dice per me la cosa importante è riabbellire tutti gli spazi della scuola con i ragazzi con la loro partecipazione magari facendo storia dell'arte geografia geometria matematica magari prendendo le misure delle aule per ridipingerlo in un altro territorio un preside un tecnico professionale dice io non ho bisogno del laboratorio io ho dei laboratori bellissimi io ho bisogno di operatori di comunità che vadano a costruirmi una rete con le botteghe artigiane e le imprese del territorio per costruire match tra i miei ragazzi e l'opportunità del mercato locale ok quindi nel bando di coprogettazione cosa c'era che per ogni area c'era un budget ma non era ma l'assessore e andremo orniroli che faceva da star non aveva l'arroganza di dire devi fare il laboratorio di ceramica ti metto queste risorse adote dentro a quelle cornici e attraverso la coprogettazione mi declini come usare quelle risorse in quel territorio per quell'esigenza lì seconda cessione di potere sull'uso delle risorse voi capite che un bel ribaltamento tutto facibile per leggere non è che abbiamo fatto una rivoluzione quella ci abbiamo provato tanti anni fa non c'è riuscita diciamo quindi abbiamo fatto voglio dire delle cose di questo tipo ora che cosa succede guarda un po questi luoghi sono diventati luoghi che hanno costruito cambiamento perché in questo meccanismo paritario la scuola ha smesso di usare il terzo settore dicendo gli senti ho quattro ragazzini terribili pigliateli tu nel laboratorio pomeridiano come spesso capita ma la scuola ha capito che dentro la multifattorialità della povertà educativa da sola non bastava e quindi ha cominciato ad attraversare il territorio ma farsi attraversare dal territorio per cui nei laboratori i lavoratori tutte le attività erano molto in compresenza in aula nel tempo curricolare e se bisognava fare un programma individualizzato per un ragazzino disperso è vero che magari la terza settore ad andare a casa sua nel parco a raggiungerlo ma lo faceva in accordo con i docenti e in molti di quei laboratori gli educatori partecipano in maniera informale consigli di classe quindi incidono anche sulla valutazione sulle competenze non cognitive che magari si sviluppano in attività laboratoria e culturali e quindi crei densità crei comunità educante e alcuni di questi laboratori hanno lavorato con le famiglie perché a napoli non solo da voi ma in generale il 70 per cento delle situazioni di fallimento formativo dispersione implicita esplicita sono ereditarie perché spesso un genitore due hanno avuto a loro volta percorsi scolastici frammentati intermittenti di dispersione e quindi non investono sulla scuola ma come la riaggancio quella famiglia soltanto facendogli il pippone che deve mandare i figli a scuola o incominciando a creare delle appetibilità attraverso i laboratori anche per quella famiglia e quindi faccio l'orientamento per le mamme lo sportello legale organizzi momenti ricreativi anche per loro guardate una volta c'è stata una mamma fantastica giovanissima 24 anni tre figli a rione triano qui vicino dove abito io in quartiere periferico di milano che un giorno è venuta a prendere i figli dopo che li avevamo portati a teatro con un'educativa territoriale e ha detto ma a me quando mi portate a teatro che faccio la schiava per mio marito e per i miei figli tutti i giorni perché poi quando parliamo di famiglia parliamo di comunità educante parliamo anche di questo quindi vi ho fatto questo racconto perché un racconto che usa uno strumento normativo per costruire una coprogettazione coprogrammazione di un intervento educativo che si è trasformato in comunità educante uno degli interventi che poi hanno anche aperto tutta una riflessione anche nazionale sui patti educativi ok i patti educativi di comunità adesso io non voglio farla troppo lunga poi ci posso tornare su alcune cose sono in realtà questo la dico proprio schematicamente allora intanto i patti educativi di comunità sono un luogo centrato che rafforza la scuola pubblica non sono sostitutivi della scuola pubblica i patti educativi di comunità sono un luogo che riconosce la centralità della scuola nella funzione educativa ma dove la scuola ammette che da sola non è sufficiente rispetto alla multisatorialità che caratterizza i processi di povertà educativa e quindi costruisce alleanze non reti e non le reti mercenari che si fanno per vincere qualche bando sto parlando di alleanze di prospettiva di senso dove si condivide un metodo dove si discute insieme come si fanno le cose dove ci si sporca le mani con gli sconfinamenti come dico io dove si accetta la fatica di lavorare con altri perché guardate c'è un motivo se noi sono trent'anni che parliamo di rete scriviamo di rete teorizziamo la rete e poi di queste reti troviamo soltanto i buchi non i nodi fare rete è faticoso perché significa accettare il ri accettare la fatica di come dire di esporsi a giudizio altrui è rischioso perché se faccio rete costruisco un soggetto sociale un soggetto già nuovo che non so se funzionerà meglio di quello che conosco è anche un po' doloroso perché vuol dire mettere in gioco un pezzettino della mia identità e quindi le reti non sono io mi è rimasta in testa una metafora del mio primo formatore 40 anni fa mi è rimasta così che si chiama leopoldo grosso che il vicepresidente del gruppo abele una delle pochissime persone che se in una sala io faccio ancora fatica a parlare perché poi ognuno di noi c'è un pezzo di emozione che non controlla aspetta questo che in una prima formazione quando mi faceva da supervisore delle kiddo per le prime volte lavoravo tra l'altro trattandomi malissimo a volte poi i supervisori sono così mi dice ma guarda che le reti non sono dei fiori di campo ma sono dei fiori di serra vanno protette curate mantenute tutelate non vanno mai date per scontate è un lavorio continuo che va riconosciuto come pezzo del 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 lavoro e quindi i patri educativi sono questi sono questi luoghi dove la scuola rimetta il centro gli alunni fragili migliora la sua capacità di accoglieri e in questa miglioria ripensa anche al proprio modo di fare scuola per tutti e tutti anche per i primi perché la scuola è fondamentale è il primo luogo il presidio democratico dove si rimuovono gli ostacoli dell'articolo 3 della costituzione che impediscono lo sviluppo della persona umana ma la scuola a 50 anni da Don Milani c'è ancora un grande problema ed è il numero di ragazzi e ragazze di bambini dei bambini che perde e quando una persona si perde in parte responsabilità sua ma in parte anche responsabilità di chi la fa disperdere e questi bambini e bambine questi ragazzi e ragazze sono i figli e le figlie dei poveri sono i figli e le figlie delle famiglie migranti sono i figli e le figlie ragazze e ragazze che hanno problemi di disabilità hanno delle fragilità sono l'anello debole e se continuano a perdersi la scuola perde una sua funzione principale che è quella di rimuovere appunto diseguaglianze di consentire a tutti le stesse opportunità in molti contesti la scuola in alcuni posti è eccezionale fa miracoli in altri contesti la scuola è diventata luogo della profezia che si autoavvera che conferma le differenziazioni sociali allora i pazzi educativi sono anche da da pensare in questo in questo modo dico ancora una cosa ci sono secondo me poi ci torno quando volete sulle sulle cose cinque verdi che mi vengono in mente per definire un pazzo educativo che funziona una un pazzo educativo che funziona è un pazzo educativo che consente di sconfinare dai propri ruoli dai protocolli dalle proprie tradizioni di intervento dall'immaginare anche attori nuovi intorno all'attore pensato agli operatori culturali alle imprese anche private a come dentro una comunità io posso organizzare se guardo fuori dalla tradizione momenti che riportano l'educazione la cura dell'educazione come responsabilità pubblica e collettiva sono luoghi che permettono di ribaltare l'ho detto prima ribaltamento per esempio nel modo di pensare alla gestione dell'amministrazione sono luoghi che permettono di raggiungere perché durante il lockdown la campagna è stata la regione che ha chiuso le scuole più di qualsiasi altra regione europea e lo dico anche qui chi ha deciso questo dovrà assumersi la responsabilità politica istituzionale di aver chiuso le scuole quando tutto il resto era aperto e guardate una responsabilità pesante perché quando il secondo anno del lockdown io sono andato ad aprire l'anno scolastico insieme all'assessore in una scuola di pianura che è un quartiere di più duri di napoli e ho visti i bambini e le bambine dell'elementare quelli scatenati tutti in fila con i loro grembiuli pur di entrare a scuola che sostavano cinque ore dietro al banco senza potersi muovere eppure lo facevano in un contesto dove la scuola non è proprio una delle priorità dopo un mese dire a quei bambini e le bambine che potevano andare al bar al ristorante il negozio supermercato ma non potevano andare a scuola ha significato certificare per quei bambini e per quelle famiglie che la scuola non serve perché questo è successo oggi abbiamo delle delle classi devastate da due anni devastate perché chi era fragile prima è stato massacrato massacrato e quindi raggiungere in quel periodo noi siamo andati nei parchi nei giardini a bussare le porte i ragazzi che si stavano perdendo ancora di abilitare protagonismo cioè quindi di portare tutti i soggetti in un in un clima di partecipazione e di dialogare con con i territori ultimissima cosa la dico così il patto educativo anche oggi è uno dei pochi luoghi laddove funziona dove di nuovo c'è un'integrazione positiva tra pubblico e privato perché in questi anni quello che era stato un punto di eccellenza del nostro paese avete parlato prima con gli appalti e cioè una integrazione virtuosa dove il pubblico non non rinunciando alla sua funzione di governo però gestiva in modo collettivo la funzione pubblica dei servizi e quindi riconosceva gli altri attori come pari non come ancella cui delegare politiche e quindi lì si è costruita delle politiche importanti in questo paese pensate alla legge 285 e 328 sulle politiche sociali pensate allo svuotamento dei manicomi la legge basale a tutta la normativa sui in questi anni è cambiato il pubblico da un lato è diventato ha interpretato l'integrazione col privato come delega della propria responsabilità come ricerca di mano d'opera a basso costo e come collusione a meccanismi di privatizzazione da canto mio il mio mondo perché io sono un cooperatore sociale dall'antiano accettato di stare a quel gioco e spesso è stato dentro alle logiche competitive che non ponevano più un problema di qualità dei servizi ha accettato le logiche di cui parlavo prima e quando fai così perdi sti squilibri tra mission e esigenze di impresa prevalgono le esigenze di impresa non riesci più a conservare un equilibrio tra la democrazia dei modelli che espone all'esterno che vorresti avere all'interno delle tue organizzazioni e quindi finisci per colludere con quei meccanismi quindi oggi va riscoperto questo tipo di integrazione i patti educativi possono essere un luogo possono essere un luogo dove risperimentare l'integrazione positiva tra pubblico e privato sociale guardate è importante provare a ragionare in questo modo qui io poi non sono entrato metodologicamente sulle cose più specifiche riguardano l'educazione ma non mi sembrava questo il contesto mi sembrava più interessante stare dentro alla pista di lavoro che ha unito questo percorso col tema degli appalti e dell'integrazione pubblico privato poi se volete possiamo entrare anche sul merito il vero tema è che chiunque oggi fa scuola educazione che sia pubblico privato sociale chiunque oggi fa politiche di welfare di contrasto alla povertà di rimozione delle diseguaglianze se le vuol fare davvero e per me per davvero significa non per fare del bene ma per promuovere tutelare i diritti deve smetterla di pensare che questo è un lavoro solo tecnico professionale il lavoro sociale ed educativo il lavoro di welfare di o è politico o non è io mi permetto di ringraziare Andrea Morniroli per il suo intervento che è stato puntuale appassionato che ha dato un taglio importante proprio sulla rimozione delle diseguaglianze che la pandemia tra l'altro ha messo in piena vista e anzi in molti casi ha acuito io sono anch'io sono un insegnante insegno lontano da qui diciamo perché faccio viaggio e vado ogni giorno a bagheria vicino palermo che ha una situazione diversa dalla nostra dove qui abbiamo tante scuole con pochi alunni lì invece gli alunni viva dio continuano a essere tanti ma le situazioni sono variegate e accanto a situazioni facili ce ne sono altre particolarmente complesse e lì la scuola effettivamente deve ritrovare il suo ruolo prima di tutto sociale prima di tutto teso alla rimozione delle diseguaglianze mi piace e mi è piaciuto estremamente l'intervento perché anche se sappiamo tutti che l'esperimento di Barbiana lo diceva già Don Milani non è replicabile queste parole tendono a un modello di scuola che forse negli ultimi tempi in qualche modo abbiamo dimenticato vedete faccio solo un esempio stupidissimo quante volte le nostre scuole si sono trovate nella condizione di alunni che non avevano la possibilità di collegarsi perché non avevano connessione perché non avevano device io mi sono trovato con mamme che mi hanno detto maestro a me sono finiti i giga non mi posso più collegare dovevo scegliere se fare collegare il bambino che va alla quinta elementare o mio figlio che va alla terza media ho fatto collegare quello della terza media quello della quinta recupererà non è questa la scuola che possiamo volere mi permetto solo di chiedere a Gaetano che qui accanto a me di leggere un intervento che è arrivato sulla pagina e poi faccio una domanda invece relativa al nostro di territorio scusate se ho fatto questo passaggio ma è pronto appunto per rimarcare l'importanza del dell'intervento fatto da Andrea Morniroli buonasera allora sulla pagina scrivono grazie per quello che stiamo sentendo sul ruolo della scuola che fa alleanza in un paese in cui il ripensamento della funzione dell'istituzione non è ancora realtà lo leggo io vediamo se se mi sentite allora Mariangela Pupillo scrive grazie per quello che stiamo sentendo sul ruolo della scuola che fa alleanza in un paese in cui il ripensamento della funzione dell'istruzione non è ancora realtà e tante decisioni cadono dall'alto avulsamente anacronisticamente indifferentemente penso che il l'intervento che hai fatto abbia colpito scusami se ti do del tu spero di ha colpito perfettamente nel segno io provo solo a dare un paio di informazioni su quello che è successo nel nostro territorio è un territorio dove via via la scuola si trova ad affrontare la carenza di alunni perché è un territorio in cui lo spopolamento è palpabile abbiamo tante scuole abbiamo un problema di diciamo decidere quali scuole vivono e quali scuole muoiono abbiamo il problema di fare i conti con la perdita di lavoratori entriamo proprio nella carne viva della della gente e abbiamo il problema che tante realtà storiche via via oggi stanno sparendo allora per l'esperienza che hai tu dei patti di comunità per l'esperienza che hai del mondo del mondo della scuola pur capendo e sapendo che il modello in cui tu ti trovi a operare è diverso quale può essere il ruolo di un patto di comunità in un territorio come questo io penso che prima o poi dovremo fare i conti con una territorialità una comprensorialità un patto di comunità che vada al di fuori dei singoli comuni però vorrei intanto sentire la tua la tua opinione pur capendo diciamo che entrare in un contesto così senza conoscerla bene la risposta è pur sempre parziale ma sono convinto che potrei darci delle direttrici importanti ma penso che certo io non conosco la vostra situazione però credo che se stiamo sulle cose di cui stiamo discutendo anche le scelte più complicate diventano più coerente a quelli che sono i bisogni del territorio cioè se io quell'operazione che tu dici no voglio dire oggi stiamo al punto di decidere quali fuori tenere quali fuori chiudere dobbiamo ragionare tra comuni per fare degli accordi abbiamo un problema delle del personale che si perde allora se questo è il dato no un conto affrontarlo con delle scelte calate dall'altro un conto affrontarlo attivando anche su questo voglio dire una riflessione partecipata tra le persone che hanno titolo per parlare di questa vicenda perché magari su questo si può anche scoprire che ci sono delle forme anche di rinconversione di alcuni posti di lavoro perché magari se faccio un comprensorio ho bisogno di strumenti di aumentare i trasporti da un posto all'altro e magari posso attivare una cooperativa che gestisce i trasporti degli studenti da un comune all'altro sto buttandole lì eh perdonatemi non no no non conosco mi ha telefonato prima che era Saraceno da Torino dicendomi che hanno aperto una portineria di quartiere che sarebbe poi un luogo che accoglie la comunità fa piccoli servizi fa relazione in comunità sempre più separate dentro una scuola che aveva due aule vuote e ha deciso di affidarle a un gruppo di volontariato che gestisce queste aule le ha fatte diventare un punto di ritrovo del quartiere no voglio dire e fra poco apriranno un piccolo bar lì dentro che serve ad autofinanziare quella cosa sono tutti piccoli esempi però queste cose vengono fuori se tu riesci specialmente poi magari anche in una realtà più piccola perché magari fare una cosa così a Napoli non ci riesci perché se io apro un bar in un quartino in una scuola napoletana si massacra un altro chilo gestisce non come dire ci sono anche il grande delle volte ti impedisce anche di fare delle cose mentre invece una realtà più piccola allora il tema è il decisore disponibile ad affrontare la fatica di mettere un torno in tavola tutti gli attori che sono in gioco in questa partita sapendo che questa roba è molto faticosa perché avrà il lavoratore che non ne vuole saper di niente perché ha soltanto paura di perdere il posto di lavoro ci avrai la famiglia che non vuole saperne niente perché non vuole mandare il figlio al paese vicino perché gli costa fatica mentre magari il figlio vada solo nella scuola vicina a casa ci avrà il problema dell'insegnante che non vuole la cattedra nella scuola più lontana perché deve prendere la macchina che adesso non prende perché poi giustamente ognuno però quando tu sei lì dentro chiaramente non che apri un tavolo dove tu devi andare dietro all'esempio ma però voglio dire dove tutte queste cose qui si trovano in un luogo di governo partecipate io l'affronterei così non avendo altri elementi non sapendo di che numeri parliamo di certo 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 beh il nostro il nostro comune è per esempio un comune di ormai poco meno di 3.000 abitanti la stazza dei comuni vicini è più o meno simile con un paio di eccezioni di un comune che è un po' più grande intorno ai 6.000 7.000 abitanti però per esempio il patto se vuoi vi metti in contatto il patto di comunità del basso ferrarese che nella zona della che va da diciamo ferrara fino a comacchio delta del po nord sono tutti piccoli comuni mogoro noro eccetera lì per esempio hanno fatto un patto educativo mettendo insieme i tecnici professionali del territorio e lavorando molto sulle imprese artigiane non artigiane del territorio e gli istituti professionali e hanno costruito un consorzio intorno al patto educativo che ha messo in relazione stretta i ragazzi percorsi nelle scuole e nel mercato del lavoro territoriale ti ricordo che il ferrarese aveva un dato di dispersione scolastica del 23 per cento in quattro anni l'hanno ridotto del 7 in questo modo qua mettendo mettendo d'accordo il territorio io dico proprio questo e ti ringrazio poi lascio la parola a chi vuole a chi vuole intervenire che sicuramente avrà riflessioni interessanti da sottoporci penso che il compito di un movimento come quello che è idea civica nasca proprio dal fatto che partante politiche anche sulla scuola e ne abbiamo avuto prova perché noi per esempio abbiamo perso l'autonomia scolastica a causa di una riorganizzazione della scuola però ecco quella riorganizzazione può essere giusta sbagliata non è questo il momento per il tavolo giusto per discuterne ma sicuramente non è stata condivisa sicuramente non è stata condivisa con gli attori del territorio probabilmente è stata condivisa in alcuni tavoli non condivisa con tutte a pieno con tutte le municipalità ok mettiamola così ma sicuramente non con i territori non con le famiglie non con gli operatori e questo e vi ringrazio veramente per quello che avete detto questa sera che ci riporta al nocciolo vero della questione e ai principi che hanno aspirato il movimento è questo il nodo questi devono essere tutti i passaggi partecipati e fatti con quelli che con una parolaccia ormai si chiamano stakeholders ok ormai ci riempiamo la bocca di questa cosa ma con chi fruisce la scuola con chi la vive con chi opera in quei contesti c'era pier giorgio voleva fare una domanda buonasera innanzitutto mia vi ringrazio tantissimo è stato estremamente interessante ascoltarvi cercherò di essere breve come può una pubblica amministrazione conciliando le necessità del suo territorio favorire la piccola e media impresa locale in sinergia con i centri ricerca faccio un piccolo esempio petralia all'interno di un parco oltre che ad avere beni monumentali di un certo tipo quindi la pubblica amministrazione che riuscirebbe a conciliare questo rapporto fra la piccola e media impresa locale con chi con l'università che si occupa di ricerca di materiali ecocompatibili per la realizzazione per esempio di stradelle comunali che si trovano all'interno del parco oppure con tecniche di restauro potrebbe qualificare anche aumentare il know-how della piccola media impresa locale che diventerebbe a quel punto competitiva e allo stesso tempo aggiungo avete fatto degli esempi sulla fornitura di beni e servizi per gli appalti partecipati è pensabile attuare anche nei lavori un intervento partecipato a livello di progettazione nelle finalità degli immobili che poi quindi ho delle immagino più degli immobili possa interessare la partecipazione perché nel caso di strade la funzionalità bene o male è ben definita sì è quello di cui abbiamo parlato prima quando si parlava ad esempio dell'utilizzo credo di un parco se non ho capito male e sicuramente è una metodologia che si può che si può utilizzare anche quando si tratta di utilizzo di beni immobili sì nel senso assolutamente sì nel senso che uno può aprire un dialogo con qualcosa di capire abbiamo questa struttura questa cosa invece decide da solo vediamo se ci sono delle idee sull'uso sull'utilizzo della struttura e cosa ci mettiamo dentro che cosa serve quali sono le ricadute imparando anche di certe volte perché chiaramente questo più riguarda più il mio mondo noi ragioniamo sempre dal punto di vista della istituzione sul piano dei diritti della cultura ma certe volte una buona l'utilizzo anche di questo tipo qua genera economia a livello territoriale può generare ricadute positive anche dal punto di vista economico che portano anche un buon rapporto qualità diciamo costi benefici rispetto alla spesa pubblica ed è un ragionamento che poco che poco si fa oggi soprattutto nel sud ci sono delle esperienze di lavoro sociale che hanno basato la loro innovazione sull' aggancio tra lavoro sociale e rigenerazione dei luoghi dei territori produzione culturale e produzione di microeconomie magari proprio a partire da un bene guardate voi forse l'avrete sentito parlare perché a me diventa la famosa le la la fondazione di comunità le catacombe san gennaro a napoli c'è le catacombe di san gennaro non bene della chiesa completamente sottostimate un prete molto imprenditore oltre che prete ha aperto una una cosa e ha detto al vaticano e la curia datecele ha chiesto a fondazione con il sud un finanziamento che gliel'ha dato le hanno sistemate ha formato un gruppo di ragazzi del quartiere il quartiere la sanità a napoli famoso dove è nato l'otò e adesso c'è una cooperativa che si chiama la paranza che gestisce le catacombe di san gennaro che da 2500 turisti all'anno oggi sono passate a 270 mila turisti l'anno da lavoro a 20 ragazzi hanno aperto degli ostelli ha rilanciato il quartiere perché poi quando arrivano i turisti le pizzerie si sono inventate la il dolce tipico della sanità la pizzeria aperto la pizzeria cioè le le cose vanno vista anche in questa chiave qua non soltanto come si diceva prima per l'effetto immediato ma che cosa produce questa roba se ho un bene abbandonato o un parco abbandonato e lo riutilizzo lo rilancio è solo un problema che è più bello è soltanto un problema che do lavoro cioè soltanto il fatto che do lavoro a tre persone che già sarebbe importante ma a lungo termine cosa mi riporta su questo territorio e guardate questo c'è anche nelle cose più lontane da questa logica io vi faccio un esempio che chiaramente è molto distante dal vostro territorio io la cooperativa con cui lavoro la Delaus fa molta attività di prevenzione riduzzi di prossimità con le unità mobili di strada va nella zona di piazza Garibaldi che la stazione di Napoli e fa interventi eh di ascolto tutela regale tutela sanitaria delle persone che vivono la strada i marginali eh prossimo dipendenza senza fissa dimora nuove povertà prostituzione tratta per questo tipo di lavoro la cooperativa prende più o meno ogni anno sui 100 120 mila euro da servizi diversi da progetti diversi con questo tipo di lavoro la cooperativa raggiunge ogni anno ormai da dieci anni una media tra le 900 e le 1200 persone l'anno se soltanto il 5 per cento di queste persone 50 non vanno in HIV e di S per una delle attività principali della prevenzione sanitaria senza considerare epatiti malattie sensualmente trasmissibili tutto il resto solo con un parametro a fronte e uso questa parola apposto di un investimento di 120 mila euro il sistema sanitario regionale della campagna risparmia risparmia un milione e 300 mila euro perché ogni persona in HIV costa allo Stato tra i 2.500 e i 3.000 euro al mese quando la regione campagna non se lo ricorda più nessuno ha sperimentato per prima il reddito di cittadinanza per tre anni seconda giunta bassolina assessore al lavoro Adriana Buffardi è un reddito che dava 350 euro mensili per tre anni senza nessun condizionamento universali le famiglie che avevano diritto per una serie di indicatori che si intrecciavano prendevano questa cifra le famiglie potevano fare quello che volevano di questa cifra io all'epoca facevo era il periodo che facevo l'assessore nel mio comune giuliano in campagna quelle 350 mila euro scusate 350 euro al mese consentirono a 120 nuclei familiari di rimanere coesi perché molto spesso le situazioni di povertà dura portano a una rottura del nucleo familiare e quindi quella cifra permisa alla famiglia di sopportare meglio l'ansia di 110 famiglie di queste 110 famiglie questo rimane rimanere unite fece sì che i minori rimasero con quelle famiglie altrimenti quei minori sarebbero finiti in casa famiglia quindi con quell'intervento ci furono 62 bambini che non finirono in casa famiglia un bambino in casa famiglia costa tra i 90 e i 120 euro al giorno per un comune quindi a fronte di un investimento della regione campagna di un milione 250 mila euro per quelle famiglie del mio ambito solo con questo parametro praticamente il comune ha risparmiato quasi l'intera cifra che gli era stata data alla regione guardate noi non ragioniamo mai così noi dobbiamo imparare che cultura sociale contrasto alla povertà welfare educazione sono buoni investimenti di spesa pubblica un ragazzino in un'educativa territoriale costa un quinto di quel ragazzino in circuito penale guardate non voglio essere cinico eh non fraintendetemi anche se fosse a perdere andrebbe fatto lo stesso perché un ragazzino non deve finire in carcere ma detto questo ok se incominciamo a raccontarci così quando c'è l'amministratore che ti dice ah ma io non ho i soldi momento vogliamo vedere se ti conviene e guardate adesso vado sul provocatorio spinto io sono dal 2000 coordino per la mia cooperativa le azioni di contrasto al traffico di esseri umani e quindi lavoro molto anche sul traffico a fine di sfruttamento sessuale allora mi capita un po' di anni fa eh che un presidente di una municipalità dove c'è una presenza notevole di prostituzione mi chiama e mi dice guarda che i cittadini sono molto arrabbiati per una serie di cose che hanno accadute e vogliono fare le ronde contro le prostitute volevano andare in strada a menarle e mandarle via e mi dice guarda io ho fatto un'assemblea aperta me l'hanno chiesta l'ho fatta vi chiederei di venire voi che siete il progetto che lavora per spiegare alle persone chi sono le persone che stanno in strada e quindi io vado a questa assemblea e mi trovo 300 persone che riempivano la sala del consiglio municipale quasi tutte donne perché a Napoli quando si tratta di far casino su queste cose sono le donne che lo fanno specialmente in alcuni quartieri e incomincio a raccontare chi erano le persone in strada guardate che molte di queste persone sono picchiate violentate per stare in strada molte sono persone diciamo che si prostituiscono per povertà insomma prova a raccontare una serie di cose se ci sono dei comportamenti che non vanno bene cambiamoli cerchiamo di intervenire con un certo punto un consigliere dice siccome vedeva che stava un po' spostando che le persone si stavano un po' calmando dice ma voi date retta a questo qui che usa i soldi pubblici per comprare i profilatici alle prostitute perché noi quando andiamo in strada a fare riduzione del danno educazione sensuale diamo anche profilatico oltre il volantino l'accompagnamento sanitario ovazione di popolo tutti a darmi addosso e a quel punto io ho pensato ma adesso come la metto la metto che siccome io sono una persona che vuol bene la sua costituzione l'articolo 32 della mia costituzione dice che la salute di una persona va tutelata a prescindere dei comportamenti dalla fondazione e quindi che io vado in strada a dare profilatico perché tuteli i diritti se la dico così sposto questa assemblea allora ho fatto una cosa un po' furba e anche un po' cattiva perché ho detto guardate è vero noi in strada diamo anche il profilatico perché è uno strumento fondamentale però voglio farvi un altro ragionamento se a napoli ogni sera ci sono 450 persone che si prostituiscono tra uomini donne e persone transessuali vuol dire che a napoli ogni sera ci sono 2500 maschi che cercano sesso a pagamento perché l'unico cliente tipo il maschio di tutte le religioni di tutte le età di tutte le culture tutte le lungitudini di tutte le provenienze questi uomini per l'80 per cento chiedono prestazioni sessuali non protette alle persone in strada e sono disponibili a pagare tre volte il prezzo della prestazione per avere sesso non protetto spesso diventano violenti con le ragazze questi uomini sono tutti mariti compagni fidanzati o quasi tutti e questi uomini con le loro fidanzate compagni e mogli spesso fanno sesso non protetto e quindi quando io tutelo la salute della donna nigeriana di cui voi non ve ne frega niente indirettamente sto tutelando anche la salute delle mogli delle fidanzate e delle compagnie italiane anche di quelle di Posillipo e statisticamente forse anche di alcune delle signore in sala l'assemblea è cambiata da così a così perché ho trovato un punto in cui quelle persone hanno capito che quel fatto le riguardava non gliene fregava niente della donna nigeriana ma mi hanno visto come una persona utile a loro poi dopo ho ragionato di tutto il resto dell'articolo 32 della costituzione dei diritti ma ho dovuto trovare un punto per raccontarmi che non era soltanto quello dei diritti quindi io credo che noi quando facciamo adesso questo è un esempio estremo quando parliamo di un servizio di educazione di un bene confiscato di un bene strutturato dobbiamo sempre pensare a tre linguaggi diritti interesse collettivo e buona spesa se ci raccontiamo così siamo più forti non so se ci sono altre domande io vorrei fare un commento alla diciamo alla alla tua introduzione perché all'esempio che hai fatto quando hai stabilizzato quelle dieci persone e diciamo a parte avere dato dignità hai anche dato un servizio purtroppo noi veniamo da una terra mi riferisco alla sicilia in cui si fa il ragionamento opposto si preferisce spendere il doppio pur di mantenere il precariato e quindi ottenere tutta una serie di benefits che non sto qui a raccontare perché li conoscete ampiamente quindi dobbiamo sicuramente scontrarci con questo con questo sistema altra cosa in tutti i servizi compresi i dipatti educativi territoriali un buon partenariato il grossissima parola fra il pubblico e il privato è fondamentale occhio a non cadere in quel partenariato in quella in quell'abuso che si è fatto del privato faccio un esempio su tutti la sanità esatto esternalizziamo tutti i servizi in modo tale da risparmiare eccetera eccetera in realtà uno non è vero che si risparmia due l'unico vantaggio è l'avere una società esterna da poter sfruttare come ufficio di collocamento no l'assessore il sindaco il funzionario x non sto facendo diciamo dei riferimenti locali parlo in generale però sono dei modelli applicati ovunque e quindi chiunque può capire questo tipo di di modello di di cessione delle proprie braghe al privato va assolutamente contrastato in tutte le forme mi è piaciuto molto il l'esempio della della signora della mamma che voleva andare a teatro a noi è molto caro l'esempio del teatro perché nasciamo da una compagnia teatrale quindi diciamo però mi serve da spunto anche per calare nel nostro contesto un esempio del genere perché essendo piccole comunità ovviamente da noi il fenomeno della dispersione scolastica cioè materialmente di bambini ragazzi che abbandonano la scuola in età scolare dico chiamo qui gli insegnanti presenti credo che sia quasi nullo grazie a dio c'è un problema legato invece alla qualità e a diciamo il coinvolgimento diretto io non faccio parte del mondo dell'istruzione però diciamo vedo sento e poi vedo i ragazzi quando arrivano all'università c'è un problema di coinvolgimento dei ragazzi e soprattutto una correlazione diretta fra quello che dicevi tu il grado di istruzione e del percorso formativo della famiglia e il percorso formativo dello studente mediamente gli studenti che vanno male sono quelli che provengono diciamo dalla famiglia con particolari problematiche quindi educare la famiglia e noi nelle nostre piccole comunità penso che lo possiamo fare molto agevolmente in maniera proprio quasi diretta far fare dei determinati tipi di esperienza alle famiglie portare quel modello di educazione anche in età adulta un'educazione dell'età adulta fondamentale ricordo che diciamo l'età media da noi è molto alta valorizziamo la risorsa che abbiamo gli anziani e l'educazione degli anziani che sono poi i nonni gli zii eccetera che si interfacciano con quei bambini o i ragazzini secondo me è fondamentale e almeno noi calandoci nel nostro contesto dobbiamo penso far leva anche soprattutto su questo l'integrazione con attività formative fondamentale io durante il mio diciamo il periodo in cui ho lavorato a Ferrara ho partecipato ad un laboratorio teatrale in cui c'era anche un progetto dell'ASP che prevedeva dei laboratori teatrali per disabili quindi poi materialmente queste persone disabili di tutte le età con particolari problematiche addirittura si esibivano su un palco ed è stato fantastico e peraltro il laboratorio è stato combinato quindi fra giovani meno giovani disabili ed esperienze del genere secondo me sono diciamo più che formative ecco queste esperienze esperienze di questo tipo possono benissimo trovare un'applicazione diretta domani mattina nel nostro territorio cioè queste sono delle azioni non a brevissimo termine a termine nullo proprio istantanee che si possono mettere in atto partendo appunto da quelle risorse che possiamo avere magari carente al punto di vista imprenditoriale per fare l'esempio del basso ferrarese ma molto ricche come conoscenza del territorio come diciamo welfare familiare chiamiamolo così ma educando quel welfare familiare riusciamo anche ad educare e riportare o comunque riqualificare quei ragazzini e quei bambini che o diciamo hanno un percorso didattico carente o che alla fine della scuola si trovano non solo disoccupati per carenza di lavoro di opportunità lavorative ma per carenza di spunti e di stimoli perché probabilmente dalla famiglia non riescono a ricevere quegli stimoli tali da essere creativi proattivi e quel è un problema grave perché riescono comunque a portare a termine il ciclo di studi ma poi non lo riescono a mettere a frutto e non sempre la causa è la mancanza di opportunità lavorative nel territorio perché una soluzione potrebbe essere emigro vado fuori a lavorare ecco questi ragazzi molto spesso non hanno nemmeno la capacità o la forza mentale di fare una scelta del genere e questo deriva dalle scelte familiari se noi agiamo sulla famiglia riusciamo a migliorare di poco forse anche di molto la situazione nostra io sto parlando della nostra realtà proprio per calare queste discussioni magnifiche nel nostro contesto stop sono le undici e dieci io non parlo più qui abbiamo una domanda dalla dalla sede l'oretana sabatino che vi farà questa domanda e intanto buonasera e grazie intanto per le c'è la bella illustrazione di tutte le realtà diciamo esistenti al di fuori del nostro piccolo mondo mi chiedevo proprio per riallacciarmi anche a quello che dice giuseppe che ruolo possono avere i servizi sociali del nostro comune in questo caso parlando proprio della nostra piccola comunità nel mettere in atto dei laboratori magari diretti appunto non ai bambini perché giuseppe illustrava diceva giustamente comunque la formazione diciamo nelle nostre scuole è ancora di qualità atto laboratori diciamo per le famiglie in una coprogettazione di patti educativi proprio atti alla famiglia quindi ad educare migliorare diciamo la loro istruzione anche qua non conosco bene la tipologia di famiglie però voi sicuramente come servizi come servizi sociali le conoscete sicuramente bene dovreste capire voi quali sono i punti che possono diventare appetibili per quelle famiglie o quello che dicevo prima no nel senso che se io percepisco che un tema di quel territorio è che ne so io l'orientamento lavorativo adesso banalizzo e non lo so non allora anche qua perché il problema non è soltanto il decisore che deve coprogettare ma anche il servizio che va sul territorio che deve ascoltare anche nel bisogno no perché adesso tu sei una di tutti anch'io qui intervenuta è un servizio sociale non sono un assistente sociale non faccio parte dei servizi sociali sono una semplice cittadina ok no no nel senso che certe volte anche i servizi anche gli operatori come me parlo di me hanno un po il vizio no di avere quel pizzico di delirio di onipotenza per cui tu pensi di avere le soluzioni preconfezionate per tutti in tasca tante volte non è così quel ribaltamento di quella cessione di potere tra virgolette la devi fare anche nel rapporto uno a uno allora se io decido di fare un servizio per le famiglie come dicevi tu la prima cosa che faccio se conosco quel contesto è ascoltare quelle famiglie e capire che cosa serve e potrei scoprire che serve un servizio di babysitteraggio al pomeriggio perché così le mamme possono fare formazione rafforzare le loro competenze posso magari pensare che serve uno spazio dove organizzare dei corsi di che ne so io di zumba perché non si può no ma guardate non sto scherzando cioè voglio dire vanno trovati dei luoghi dei modi perché mai dovremmo semplicemente soltanto occuparci delle cose che non vanno magari quelle mamme quelle famiglie sono andate anche male a scuola ma sono dei grandi talenti due avete parlato che è nascita da un'esperienza teatrale quanto nei laboratori teatrali nell'animazione nascono tirano fuori delle competenze dei talenti delle capacità che non vengono fuori in altro modo l'altro giorno io abbiamo noi abbiamo un centro interculturale che si chiama officine gomitoli a napoli cioè dove i ragazzi si incontrano sulla bellezza fondamentalmente è nato come luogo dove l'incontro tra ragazzi italiani e migranti è un'occasione di bellezza di culture d'arte per il quartiere abbiamo ribaltato la prospettiva l'altro giorno un ragazzo che da noi da un anno che sta in una casa famiglia un minore straniero non accompagnato che ha fatto il viaggio quello dei gommoni che ha perso un cugino durante quel viaggio che non ha mai raccontato una virgola di quel viaggio del suo viaggio si è inserito in un percorso di laboratorio teatrale primo giorno del laboratorio teatrale a metà laboratorio si alza e racconta agli altri il momento esatto in cui ha capito che la famiglia aveva investito su di lui per il viaggio raccontando l'impressione che ha avuto quando uscito dalla doccia ha trovato negli asciugamani i soldi e il numero di telefono dello scafista il telefonino che gli aveva lasciato la mano non era mai venuto fuori in comunità c'è una cooperativa che si chiama San Marcellino a Genova che lavora da quattro anni collaboratori artisti culturali con i senza fissa dimora e sta ottenendo risultati straordinari perché guardate tra l'altro se uno entra in quest'ottica qua abbassa anche la simmetria di potere tra l'operatore e la persona perché se faccio teatro o canto non è detto che l'utente canti peggio dell'operatore più facile che l'operatore sia più stonato dell'utente adesso banalizzo un po' ma quindi abbassi il livello gli operatori si sentono meno sicuri si rompe il setting io dico spesso che gli operatori dovrebbero avere il coraggio di rompere l'incantesimo della scrivania intanto grazie davvero ad Andrea Morniroli io mi permetto se per ora non ci sono altre domande di fare una domanda a Patrizia Luongo non ci vogliono lasciare andare a casa siamo già a casa e che siamo a casa voi siete già a casa io ora ci torno no no solo questo perché un intervento che mi ha preceduto parla di diciamo puntare sulle specificità del territorio anche per esempio sulle specie arbore sulle tante ricchezze naturalistiche che abbiamo in questo territorio oggi purtroppo il nostro territorio il nostro paese soprattutto ma non solo è attraversato da un problema che è la frana noi abbiamo una frana che per tanti anni è stata quiescente e che negli ultimi proprio quest'anno si è riattivata è una frana storica che ha le sue origini centinaia di anni fa sembrava fosse passata la grande emergenza dopo l'ultima frana che era stata nel 77 ad oggi si è riattivata e incide appunto sulla carne viva di tanti cittadini che hanno dovuto lasciare le case hanno dovuto trovare altre sistemazioni vivono situazioni economiche anche un po' complicate mi chiedo se questo problema ora vado un po' diciamo in prospettiva e cerco di di dire una cosa che capisco temo di banalizzare la complessità ma mi chiedo se questa questo problema non possa diventare paradossalmente un'opportunità se legata a quello che fino a oggi tu ci hai spiegato cioè la collaborazione con gli enti di ricerca penso all'università di scienza geologica o altri enti in tal senso e le piccole e medie imprese del territorio o se tu magari hai contezza di qualche esempio in tal senso io penso non lo so a Civita di Bagnoreggio la famosa città che muore dove naturalmente ormai ci sono degli studi internazionali proprio per salvare questa città la cui base si va erodendo ogni giorno o concludo se questo è un tema talmente specialistico per cui la collaborazione fra un centro di ricerca come può essere l'università e una piccola o media impresa che si occupa che so di edilizia o di questo campo è fuori e fuori discussione volevo sapere se ci sono degli esempi in tal senso se lo ritieni fattibile se è un'idea sulla quale si possa in qualche modo lavorare allora non ho un esempio concreto di una collaborazione di questo tipo che esiste da qualche parte però non le escluderei a priori nel senso che mi immagino che se attraverso la ricerca si trova un sistema per mettere in sicurezza a determinati territori probabilmente solo collaborando con la piccola impresa non ci si riesce bisognerà collaborare con più imprese ma questo non significa che sia inevitabile da fare probabilmente quello poi è uno dei casi in cui anche riuscendo a mettere in sicurezza il territorio non è detto che poi le persone possano riappropriarsi delle proprie abitazioni ed è proprio uno di quei classici esempi di casi in cui il cambiamento i cambiamenti che interessano il nostro territorio e l'ambiente vanno a colpire soprattutto le fasce magari più vulnerabili fragili o deboli della popolazione in questo caso evidentemente da un punto di vista economico quindi con impossibilità magari chi ha non lo so se è così ma magari chi ha costruito in quelle zone o vive in quelle zone perché le abitazioni sono più economiche le abitazioni sono più economiche proprio perché probabilmente una delle cause è che sono su un terreno che non è che non è stabile quindi è possibile sicuramente intervenire in quel modo qualora esista la soluzione scientifica per mettere in sicurezza quel territorio ma bisogna intervenire poi anche a favore di queste famiglie e mi veniva in mente è un collegamento banale ma il primo che mi è venuto in mente è che parlavate di tanti edifici che sono in qualche modo liberi vuoti e un possibile utilizzo di alcuni di questi edifici potrebbe ad esempio essere per l'edilizia per l'edilizia popolare o per l'edilizia insomma di persone che si trovano in questo tipo di situazione quindi direi che si possono mettere insieme come per ogni problema la soluzione non sta mai nell'agire soltanto su una cosa ma cercando di prendere in carico tutta la situazione quindi da un lato appunto sopperire all'emergenza di queste persone dall'altro cercare la soluzione ideale per risolvere quel problema cercare in qualche modo prima di tamponare e poi di risolvere ma non è escluso che per questo tipo di problematica non ci possa essere una collaborazione tra università e impresa me lo chiedo anche e chiudo velocissimo alla luce di quello che è emerso da un recente incontro sui fondi destinati alla Sicilia si parla di circa da quello che è l'incontro che c'è stato un paio di giorni fa a Catania 20 miliardi tra fondi PNRR fondi FESR fondi Interreg fondi FSC che 10 di questi la metà dovrebbero essere gestiti soprattutto dai comuni a quanto dicono in questo incontro e mi chiedo se naturalmente questi fondi poi hanno destinazioni specifiche però mi chiedo se in questo caso non ci siano delle linee di intervento che possono facilitare un processo in tal senso perché il nostro territorio è un territorio non solo quello di Petraria ma molte parti delle Madonie è fragile e forse potrebbe diventare un caso un caso studio un laboratorio in cui ci siano delle idee e delle nuove tecnologie che possano essere applicate magari coinvolgendo anche le imprese del territorio che quel territorio in qualche modo lo conoscono e lo vivono ogni giorno allora io così a naso a senso se dovessi andare a verificare dove è possibile reperire risorse per questo tipo di intervento probabilmente guarderei ai fondi per il cambiamento tecnologico che è una delle linee di cambiamento insieme alla transizione ambientale perché molto spesso la soluzione a questo tipo di problema vengono da innovazioni dal punto di vista tecnologico quindi guarderei a quelle risorse guarderei alle risorse destinate all'ambiente e a quelle dirette più al sud quindi capire se in queste fette di risorse che dal TNR nazionale poi vanno alla regione poi vanno ai comuni proverai a individuare lì delle voci di spesa sulle quali fare investimento in questo senso e sicuramente un altro pezzetto è quello delle università perché ci sono diverse proposte che parlano di hub di hub territoriali o di creazione di network però diversi rispetto a quella che era la proposta che aveva fatto inizialmente il forum ma non è detto che si possa provare a insistere dal punto di vista delle risorse su quello quindi io guarderei lì lascio intanto il tempo se c'è ancora qualche domanda casomai lascio la chiusura a Giuseppe Dino che è stato il collegamento con il forum disuguaglianze e diversità che ringraziamo e ringrazio ancora Patrizia Luongo e Andrea Morniroli mi bastano perché era solo per rilasciare il copyright a Messiroli per quanto riguarda la citazione che ha fatto all'inizio del suo intervento delle mie non banali parole perché sono dettata da un'esperienza che mi porta a concludere con un'altra cosa per fargli di più mente locale sul come siamo sistemati noi le visioni che sono qua proprie della governance sono quelle che portano a costruire delle scuole abbeneristiche sostenibili in un comune dove nascono tre bambini l'anno e dove non esiste l'istituto perché non c'è l'autonomia perché già si fa parte di un istituto di un altro comune già le scuole bastano due aule o tre e però si costruiscono scuole da tre milioni e mezzo di euro a beneristiche con super materiali le visioni una volta servivano per dare lo TSO detto l'altra sera e continuano a essere visioni da TSO con questo saluto e ringrazio oltre a voi anche Missiroli e Patrizia che mi permetto di chiamare con il TOO perché viene ormai utilizzato da tutti in rete saluto e ringrazio e non mancate farmi sapere quando vi collegate per un'altra iniziativa perché come vedi sono attento alle cose che succedono lo sono un pochettino citato da sempre 31 secondi e ti lascio la parola grazie ci tengo a sottolineare che l'amico Pino non è nemmeno diciamo un nostro concittadino ma è talmente tanto l'ardore l'avete potuto notare che non perde non perde un appuntamento peraltro è stato pure relatore in uno degli interventi che abbiamo fatto riguardanti la gestione del servizio idrico integrato e vari altri problemi del nostro territorio e lo ringrazio per essere come sempre un utilizzo tecnico averrina e quindi io mi accingo a concludere così diciamo lasciamo liberi tutti all'inizio ho dimenticato di dire che il movimento idea civica si è dato alcuni principi proprio cardine ha messo dei cardini dei pilastri per fondare il proprio movimento su dei principi uno di questi fondamentali è l'equità non a caso appunto abbiamo scelto l'equità proprio perché da quei principi poi discendono tutti i temi che non tutti i temi ma il modo in cui stiamo trattando tutti i temi e penso che stasera abbiamo avuto la dimostrazione volando alla quota di un condor a più di 6.000 metri stasera abbiamo volato veramente ad altissima quota ringrazio Patrizia ed Andrea per averci agitato dico diciamo utilizzo il termine agitato non tanto perché siamo diciamo come dire intimoriti o spaventati ma per citare una famosissima celeberrima citazione di Gramsci agitatevi perché avremo bisogno del vostro entusiasmo quindi voi ci avete agitato e avete risvegliato e alimentato il nostro entusiasmo nella costruzione di questa visione che a questo punto si fa sempre più interessante e sempre più piena di spunti e di contenuti vi prego di inviarci i vostri contenuti i vostri suggerimenti anche quei riferimenti legislativi o anche i casi studio che possono essere affini alla nostra realtà ma anche se non sono affini quello che interessa a noi è il metodo è la nota metodologica lo abbiamo da sempre ribadito bisogna trasporre nella nostra realtà tutto ciò che è stato tutto ciò che di bene è stato fatto altrove basta il metodo basta la nota metodologica vi ringrazio ancora per averci dedicato più di due ore della vostra fatica e della vostra della vostra professionalità e spero che diciamo la collaborazione con il forum non finisca qui ma inizi da qui grazie a tutti anche ai presenti e vi auguro una buona serata ciao grazie grazie a voi e ci sentiamo vi ho già girato le delibere del comune di Napoli adesso vi giro anche a normativa del lavoro ottimo grazie a tutti